buonasera ragazzi tutti bentornati qua col giudice clark foster siamo di nuovo in live bene 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 ok questa qua perfetto qui abbiamo queste cose qua ok 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 ci siamo buonasera buonasera girardi buonasera buonasera tutto bene lei bene bene adesso chiamiamo il procuratore vediamo se qualcuno ci viene a prendere esatto non mi risponde niente va chiamando il giudice gardner vabbè già essere a new york lui non mi risponde non mi risponde niente non mi risponde niente non mi risponde niente non mi risponde niente Sì, sì. non mi risponde cos'è questo? basket ball ah non si gioca a casa basket tennis basket non mi risponde solo voglio richiamarlo ci vengono a prendere? non ci vengono a prendere nessuno ma lei ha un numero di telefono di qualche marshal di procuratori? no non ci vengono a prendere nessun procuratore? si tutti chiami Francis Cooper allora mi ha attaccato buonasera carina abbiamo il giudice in attesa? no è veramente il solito sotto casa non so è 617 no il giudice è pronto ce l'ho davanti a me ti sto informando se lo venirei a prendere a piedi viene il giudice? e i marshal? e come faccio a contattare? non c'ho i numeri di marshal ma cazzo ma è un procuratore devi chiamare marshal mio eh? ok va benissimo ok va bene ok adesso ti vengono a prendere bene facciamo prima di andare da soli meglio una scorta dell'FBI che uno di i marshal non vorrei da nonne per discriminare però l'FBI l'FBI ovvio l'FBI ma che mi dici di lino? cosa? sempre poco che non avviene come va? eh i giorni in avanti i processi sono sempre a fare si lavora si lavora ho fatto un po' di vacanza qualche settimana poi adesso si torna a lavorare che bello in vacanza? eh in Italia in Italia in Italia? in Italia? dove? in Italia a sud a sud a sud al mare al mare roba seria al locale assolutamente si assolutamente si lo metto donne serati champagne eh si ragazzi mangi a divertirci lei è stata in ferie eh? dove? io sono rimasto qua in America però me ne sono fatti in zona Miami o Caraibi vediamo su un po' più un po' più che i i lo che e la Grazie. Oh, Tetsuya, che se è gente nulla facente? Elia, che clown? Parla lui, parla il clown, qua le prime serie, prima categoria. On, lui si è on. Oh, Gia, 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 Gia. Guarda come penso. sono stressato sono stressato mamma mia è sassato e lei come stressato no no sono rilassato ancora ancora sono rilassato è arrivata a lei arriverà le marshal? ah qui se ne avviene bravo loro! da 10 minuti che aspettiamo and this che è sto gioco che gioco? stavo provando il gioco zombie rod sul cellulare strano eh com'è? strano mi arrivano sti marshal arrivo subito che devo fare? si giudice gardner buonasera salve chi è? sono giudice gravi giudice fosterson giudice fosterson salve salve io già sono in tribunale eh si io l'ho chiamata 10 minuti fa ma lei non rispondeva le chiamateva chiamami marshal se lei non legge le chiamate che ne arrivano non mi dispiace chissà di ma che stai dicendo? certo l'ho chiamata tre volte l'ho chiamata ma cosa stai dicendo? live testimone mi dispiace prima cosa la seconda cosa stavo leggendo i fascicoli quindi cioè grazie tui eh testimone è che ti ho chiamato tre volte ma c'è Gilardi eh sì Gilardi con me ma a piedi con me quindi eh beh perché se no ah io ho chiamato oscar e oscar mi ha tirato giù la chiamata avevo chiamato è fatto bene avevo chiamato del cova e non sapeva come contattare i marshal adesso ce li ha mandati quindi siamo attesa di marshal io ero puntualissimo alla 21.10 ero in cittàio 21.11 ti ho chiamato tu non rispondevi e colpa tua ha fatto ritardo mamma che vergogna che vergogna no no guarda io non parlo con lei cosa vuole ho chiuso aiuto perché mi hai risposto chiudi chiudi la chiamata non posso non posso chiuderla ma come ma come oddio no ragazzi è rotto richiami richiami t'ho chiamato ecco ma devi fare un fiotto quinta caro no sì no ciao no fallo tu ciao allora ragazzi ci viene da poco a fare F9 dove cerca persona e kickarti oh allora non iniziamo a fare questi abusi di poteri esci esci tu no io non posso esci esci tu vabbè ti cerco adesso oh non mi kickare che ti faccio la sale i penè dell'inferno e faccio la clip ti giuro per abuso di poteri e abuso di poteri è stato il coraggio dalic dalic perdite al minimo ma se non arrivo ma da rio non stiamo persi sicuramente si siamo persi ma chi è un attimo del cova del cova? non si è affatto allora del cova ok per cazzo? nel cova? no no non mi permettere mai volevo sapere ma sono in arrivo? si? ah ok va bene la ringrazio noi stiamo facendo la buca qui che stiamo in attesa che vengono a prenderci stiamo montando la tenda il giudice no vorrei dire il giudice c'è una certa età e sta accendendo il falò ho dovuto fare pure un po' d'aria perché non è che sarebbe bene in piedi solo stiamo a giocare pure è umido stasera che radio è la vostra? 4? 4? che radio è? radio di marcia radio di marcia ok grazie ciao ciao arrivano da dove sono? non lo so adesso io lo chiedo direttamente scusa ragazzi girardi dell'fbi volevo sapere che punto state per prendere il giudice grazie orso giusto? dove è? sì so io so io ok grazie dove sono? 4.1 sono in arrivo aspetta non sentiamo un attimo 4.1 con voglio per il giudice c'è anche per il con voglio del giudice grazie stanno a 400 metri sono arrivato eccoli eccoli ok ok quanti sono? vai quella macchina mi sa che è la nostra quella l'altra dietro è la nostra la blindata ah ok prego buonasera ho montato la tenda ci sono farò io intanto buonasera 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 tutto bene signori di marshal? sì sì chi è che c'è con cui ho il piacere di parlare macchina sergente maggiore de santi salve ah buonasera sergente maggiore poi? e la gente brega ah bene mi piace brega come Mario? sì e merci ah bene bene a la lontana è il segreto sta in Italia tu sta qua in America falo ma la nostra scorta se n'andata sì de santi di che faccio qualcosa gli dica che la scorta deve stare leggermente eh lo so il problema è che le rapi avevo mezzo anno mezzo no ah ok io so guarda che la maria hanno un po' di hanno un po' di problemi eh sì sto vedendo pure io perché lei che va molto largo e dico che corre ragazzi mi ricevete? eh un po' più piano gentilmente ci abbiamo un cattoccio ricordatevelo anche ma a parte quello vuoi l'occhiettino ah anche i l'occhietti ah c'è che guida mi perdono prega oh cazzo prega un a sinistra dietro non so ne quale che vi dietro dietro l'ho saltato mamma mia oggi eh l'ho visto saltà proprio l'ho visto la cazzosata ma si ma non guida lei ma dove va? io li vedo qua fermi li vedo eh ma allora non so guida lei sergia eh no guido io guida lei sergia eh ma dovete scendere quanto mi accosto oddio vai guida mia ma io so qua ma sai qui il problema no è lei che avrà problemi noi non abbiamo problemi noi non abbiamo vai i problemi chi è uno e su eh ma posso e poi il collegano ma poi il problema non so io allora si ma dobbiamo aspettarla non può venire da sopra andiamo andiamo cioè dovevo iniziare 20 minuti fa no potevo aspettare quella macchina direttamente anzi aspettatelo aspettatelo aspettalo tu noi andiamo che fai io fai io a piedi col due eh quella appunto more de solitudine quando arriva da New York può essere può essere urgente immaginare yes siamo in ritardo di 20 minuti ma non so è colpa loro giudice noi stavamo là sono 25 minuti che stavamo là si non so che a me come ci avete messo tipo 20 minuti per arrivare raggiù ci siamo svegliati molto tardi stavamo facendo una cosa tutti insieme una piccola riunione e niente siamo tutti a valore 20 minuti per arrivare fino laggiù cazzo è bella lontana ho capito però nel senso io ho chiamato abbiamo chiamato carina del cova che erano sono state le 9 e un quarto sì che anche noi siamo stati un po' puntuali ecco insomma però dopo un quarto abbiamo chiamato carina del cova stavate perci alle 21 e 30 e noi ci ho mostrato ora dopo come? qui dice dobbiamo chiedere a patta che leva i giochi dentro avrò brava mia sì sì niente pausa niente pausa il giorno sarebbe un'ottima cosa 20 maggiore che stava giocando Dragon Ball l'altro giorno no no io non ho non rigate sinceramente forse era l'altro sergente beh che ne so ho visto uno graduato che giocava Dragon Ball beh può essere Vitale Baresi bello sto ponte sì lo so lo so certe volte non lo vedo sì speriamo che lo pena perché sennò lo leghiamo lo vedo in questo momento lo vede in questo momento? sì sì perché se non lo vedo sono cazzinostri immagino 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 ok qui la gente siamo in Formula 1 qua bravi è ma è la romma grazie a tutti qua devi venire pure Strash chi? Orlando? Orlando scusa chi è Strash? non penso penso ci sarà Wuxiang al posto di Orlando alle 22? no alle 21 un quarto dovevo iniziare i processi no dritto al turno 15 dovevo iniziare i processi e poi la prima grazie di questo c'è il parco qua a destra il problema è che loro fanno 200 noi facciamo 150 massimo dovremo rispettare anche i timidi guarda qui che servizio grazie mille prego buonasera buona 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 grazie a tutti grazie a tutti buona錢 buona 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 la settimana ha giusto 25 minuti il ritardo giudice ora lo scrivo è colpa di Gardner io sono entrato in città Gardner non ho detto Gardner no ho detto Gardner forse non mi hai capito bene io sono entrato in città alle 21 e 12, 13 insomma un po' quasi tirato già in ritardo il ritardo di 5 minuti sarebbe stato se ci fossero stati Marshall sotto spunti di aspettarvi come l'altra volta come l'inizio che cazzo ti ha mai aspettato ma che t'ha aspettato poi dopo chiamo Gardner e non risponde gli scrivo e non rispondo chiamo Gardner di nuovo e non risponde e beh passa il tempo e arrivano e arrivano e arrivano le 21 e 20 arrivano ok poi chiamano del Cova chiamano del Cova del Cova non sapeva dove fosse Marshall allora chiamano Marshall e Marshall arrivano persi nel nulla e Marshall arrivano le 21 e 30 arrivano di Marshall e 10 minuti per arrivare fino a qua vabbè comunque iniziamo subito no basta me entra andrei per le piccole perché dovete entrare perché entra prima il giudice poi l'angelo tu sei in ritardo guarda come ti ho chiamato sull'applicativo grazie chiunque me l'abbia fatto io grazie in ritardo io avrei scritto al posto di N è un'altra roba ti si vuole bene vado a vedere un attimo quanta gente ci arriva in ritardo con la posta appunto era quello divertente ma quanti cazzo di processi abbiamo questa sera oh adesso la noce tramonte al sol mon amour sono tanti tesoro no sono tutti fattibili velocemente se ci svegliamo cazzo ragazzi stanno restando le botte ma c'è un botte di gente ho visto fuori speriamo no 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 ragazzi mi prego mi stai riscriminando per caso assolutamente no guarda ah ecco no per favore mi stai riscriminando si io mi vado a parlare così se no poi ti riscrivino eh no non puoi mi sto faccio ho clippato perfetto ho clippato perché se il giudice con i capelli bianchi ti riscrivino ah ecco mi dico che i giudici con i capelli bianchi non possono professare oh ma io sono troppo stress qua io penso che mi devo fare tipo una settimana senza processo perfetto come se avessi fatti guarda oh mille dollari dalla procura ricevuta aspetta ti tolgo il lavoro aspetta aspetta ti prendo schiaffi e ti faccio girare tutto il mondo aiutami cancelliere va a vedere cancelliere salto ma non entrano giudice sempre in forma ma non entrano non entrano i cittadini non lo so le facciamo entrare magari ma io già l'ho detto tanti volte facciamo entrare i cittadini marcia forse stanno entrando le stanno già facendo entrare ma che è questo che cammina in questa modo ma che è questo ma che è questo che cammina in questo modo ma guarda faccia un salto faccia un salto lo capisce scusa signori buonasera come state sacchi come state come è fratelli tappo oggi 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 25 minuti di tardo dai entro entro la mezz'ora stiamo migliorando giudice entro la mezz'ora signori io mi presento io mi presento alle 9.40 9.30 stiamo dentro iniziano le 22 processi di passare settimana si si no era un caso si adegueranno non si provo eeeh niente spero che anche lei abbia guardato le prove eeeh l'ultima chiamata e quali prove ma nel documento scusami nel documento di pachiglory io ho trabuso tutti ho messo anche i reati minori però mi sa qualcuno giudice abbassi la voce ho un consiglio senta lei si faccia da fare i suoi ma si era avuto fuori dai giudice noi ci mette dietro sono in tra gli ultimi un minuto e si parte dai cancelli andiamo a 20 noi andiamo a lavorare arrivederci ah che bello che ha detto noi grazie perché pensava che lei non esiste scusi la volta a fare le persone mi dicono di sì 30 secondi e si parte 45 andiamo si devo vedere quanta gente c'è cioè chi sono i inizio a vedevo eh arrivo senta eh dimmi il ritardo graffo perfetto funziona la transizione della della scena ecco 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 iniziamo no donna il cancelliere non ritardo di mezz'ora chissà per colpa di chi allora anche lui siamo colpa 2 no non è colpa mia perché sono letta di mezz'ora senta e faccia dire da chi inizia che inizia allora abbia in situa o vai di ambrosi abbiamo 0 12 0 15 0 17 allora aspetta 0 12 0 aspetta 15 17 ma come sono i colori non sono i colori su testo giallo sto rossa tutti gli altri no ma come abbiamo il giorno 12 0 18 0 15 0 17 0 12 0 15 0 17 qui abbiamo qualche glori iniziamo qualche gloria ma il processo doveva spostato il processo del 21 15 per chi non lo so dai arriva si presenti la banco della difesa patti gloria il suo avvocato la voglia di vivere il cancelliere mamma mia frizzo di gioia che c'è niente mi sento fino a fuori ma comunque per far tagliare la sedia che se no non ci sentiamo no quella sedia è là in mezzo ci inizia buonasera a tutti seduti grazie prego accusa mi senti così buonasera signore e signori e buonasera vostro onore oggi siamo qui per affrontare il processo del signor glory accusato di abuso d'ufficio e altri reati minori citati sul fuori del processo diciamo che parto dicendo che oltre ad essere l'accusa in realtà sono anche il primo testimone in quanto in quanto mi trovavo sulla scena in cui il soggetto in questione c'è il signor glory ha compiuto l'effettivo reato il signor glory in maniera più specifica ha abusato di quello che era il suo compito da medico per sfricciare a tutta velocità in stato di emergenza eh no però c'è l'altro procuratore che può fare hanno così la ringa iniziale non si può obiettare signori per favore noi iniziamo prego stavo dicendo stava sfrecciando in uno stato di emergenza andandosi a schiantare con diversi veicoli civili uno dei quali poi a causa sua ha impattato con il posto di blocco formato dai marshal distruggendo delle barricate nonostante abbia evidentemente ferito diversi civili però l'imputato è scappato con la scusa di avere un'emergenza se non fosse però che poi è stato dimostrato che in quel momento non vi era nessuna effettiva chiamata d'emergenza tutto verificabile nel documento allegato sul foglio che vi andrò successivamente a consegnare concludo la ringa iniziale dicendo che come ben sappiamo l'abuso di ufficio si verifica qualora l'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio intenzionalmente procura se o ad altri un danno ingiusto ed un ex medico perché successivamente poi è stato licenziato che invece di salvare vite tenta di toglierne altre guidando come un pazzo non può rimanere assolutamente impunito tutto ciò secondo noi non è accettabile anche per rispetto di tutti coloro che tutte le mattine si alzano dal letto e dedicano la loro vita a salvare quella degli altri ho concluso, vostro onore se mi dà il consenso procedo a consegnare a consegnare foglie prego, prego, consegni occhio me lo passo a te e poi me lo passi a me me lo passi pure a me ok ha due copie e una sola due copie però una per è vostro onore che numero porta? 287 ok che non ce la farà solo a passare le cose? eh no, non vedevo allora, l'altro l'avvocato puoi far vedere eh? si, si ricordati di non premere il link eh, bravo posso avere la parola? si, si, prego bene, allora io vorrei un attimino precisare innanzitutto che il signore non era un dottore ma era un tirocinante quindi dicevo era accingeva alla carriera di dottore ma non era un sen dottore non contesto niente dei reati perché il mio imputato si dichiara colpevole di aver usato la sirena non consenamente di aver portato a un posto di blocco di non essersi fermato all'altro ma il reato di ufficio vostro onore non è questo che dice il signore cioè l'abuso di ufficio permette che io faccia qualcosa da cui ne possa ricavare introiti da cui io vado a giovare un qualcosa per me che mi faccia avere qualcosa con questo abuso e io qui non vedo nessun abuso di ufficio vostro onore non so lei però qua il reato è proprio un altro reato io vedo un mancato alt è un uso improprio di un veicolo aziendale è quello che io vedo quando sono figa lei ha finito la sua ringra iniziale sì al momento sì perché non riesco il cliente non era il mio cliente l'ho preso diciamo che c'era l'avvocato Peter ma l'ho preso adesso perché conoscevo il cliente conoscevo l'avvocato Peter ma hanno preso il mio cliente però ovviamente non posso difenderlo e per quali reati si richiede l'ambulanza per il mancato alt della polizia per non essersi fermato a posto di blocco e per aver usato la sirena non consonamente la guida pericolosa perfetto ho finito la ringa certo prego accusa abbiamo testimoni affermativo vostro onore come testimone vorrei un attimo solo c'è quello lì c'è la sinistra e chiamare l'imputato a deporre prego cancelliere prego mi segua dai dai proviamo semplicemente a cancelliere sta qua no perché no boff paraccia parmarshal vuoi cancelliere con il casino metta la mano sulla bibbia ripeta dopo di me giuro di dire la verità giuro di dire la verità tutta la verità tutta una verità nient'altro che la verità nient'altro che la verità consapevole della mia responsabilità morale e giuridica consapevole della mia responsabilità morale e giuridica e di non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza e di non nascondere nulla a quanto di mia conoscenza buonasera signor glori buonasera avvocato sono un procuratore e non l'avvocato buonasera procuratore allora signor glori parto dicendo che lei in quella sera si trovava in veste da medico e sottolineo medico non dottore in quanto prima magari non so se l'avvocato ha frainteso però ovviamente lei in quel momento si trovava da medico sul posto giusto affermativo e lei stava guidando l'ambulanza ad una ad un'alta velocità in stato di emergenza mi conferma questa cosa affermativo ok in quel momento si ricorda che è andato a scontrarsi con un'auto civile ferma di violenza poi andate a impattarsi sul nostro posto di blocco sì penso di ricordarmi quando è passato dal posto di blocco le è stato incitato è stato obbligato di fermarsi obiezione la sirena accesa è un posto di blocco in mezza strada che uno che va veloce come fa sentire fermati proprio per questo avvocato in realtà il suo imputato non è accusato di mancato alt non so dove l'abbia letto quello e no è infatti però ma la sua accusa qual è dia un nome l'accusa abuso sud ufficio no in che senso il nome dell'accusa no l'accusa l'obiezione scusate la piacere era che ha fatto una domanda che è poco pertinente come va uno a sentire con la sirena spiana abbiamo già accertato che c'era la sirena accesa cioè nel senso tu che ne dici non è capitato l'obiezione si veda un attimo attenzione stiamo parlando cosa che ha detto l'obiezione perché ha detto l'obiezione perché ha detto non poteva essendo che aveva la sirena accesa non poteva sentire le persone gli dicevano fermati poteva rallentare al posto di blocco c'è subito che ha fatto obiezione rifiutata obiezione rifiutata vado avanti il procuratore perfetto continuo dicendo che ovviamente non avrebbero mai e io lo confermo perché io ero lì sul posto in quanto sapevamo che lei stava in stato di emergenza quindi doveva soccorrere una persona però anche lei mi ha confermato che stava guidando in maniera molto strana e pericolosa l'obiezione che soccorso la persona si è assolutamente stavo guidando in maniera come dire sportiva ho messo lo sport sull'ambulanza la modalità sport sia il selettore si non lo sapevo dopo di che io e gli altri marshall siamo venuti dietro mentre stava in stato di emergenza e durante il tragitto ha comunque scontrato altri civili non mi ricordo vabbè lui eh però vi chiederlo quanto è passato? eh sono passati neanche una settimana una settimana a qualcosa se non sbaglio devo riguardare un attimo la data se mi puoi controllare la data? vabbè se non ricordo vabbè non è adesso rilevante per la domanda non si preoccupi comunque una volta giunti sul posto in cui vi eravate momentaneamente fermati noi le abbiamo chiesto quale fosse il numero della chiamata d'emergenza giusto? salve sì ok in quel momento poi successivamente si è recato ad un'effettiva chiamata però questo dopo almeno dieci minuti conferma? sembra un po' eccessivi dieci minuti facciamo cinque e mezzo me lo conferma o è una sua supposizione? beh non mi ricordo dieci minuti ma comunque sì sono andato poi a una chiamata allora le confermo io che sono dieci minuti perché abbiamo ricontrollato l'orario della bodicam e l'orario in cui è giunto sul posto della chiamata ottimo in ogni caso una volta arrivati sul posto lei ha soccorso una persona a terra quanta gente? sì era il mio lavoro sì ok e su questo ovviamente non ci sono non ci sono obiezioni non tutti ma però lei allora mi stava confermando che in quel momento cioè lei mi conferma che quando lei si trovava a quella velocità sul posto di blocco aveva un'effettiva chiamata? non dal centralino non dal centralino e da quale? aveva una chiamata privata non esistono la chiamata privata e da chi? si chiama Shasha il ragazzo Agadizi però non so se vuole questo momento penso che sia fuori città adesso non so se può confermarlo sento eccono e cosa le aveva chiesto il signor mi ripeto il nome? la crea ragazzi un povero cosa le aveva chiesto il signor Sasha? di dargli un cerottino quindi non era una situazione d'emergenza beh oddio un cerottino può essere sempre una situazione d'emergenza stavo molto male stavo molto male silenzio in aula silenzio in aula la prossima volta che parla verrà allontanato primo avviso al secondo è fuori stavo dicendo quando una persona chiede di mettersi un cerotto è per una ferita superficiale giusto? non sempre perché su un'emorragia per esempio si mette un cerotto cerotto strips era un ex medico in caso di emorragia si mette un cerotto strips sì è comunque un cerotto ok quindi lei mi sta dicendo che il suo il suo test il suo amico che gli ha chiesto un cerotto aveva una situazione pare a quella dell'emorragia? intendo come gravità ovviamente ripeto lei sta dicendo che il suo amico aveva una situazione grave come quella che può essere un'emorragia? non lo so non sono più andato sul posto alla fine beh ma il suo amico le ha segnalato qual era il suo problema no? adesso che dovevano dire lì perché gli servivano delle cure di cerottino non ho capito bene non mi ricordo quindi secondo lei due settimane con una situazione ipotetica di una cosa grave come quella dell'emorragia le viene a chiedere un cerottino? ma non si sa se è un'emorragia io non mi sono potuto recare sul posto vabbè anche perché lei è stato d'aiuto comunque avvocato non può parlare anche per lei il primo avviso il nostro onore posso continuare? prego continui vada vada bene quindi da quanto da quanto abbiamo capito la sua chiamata del suo amico semplicemente enunciava un semplice cerottino non uno stato di emergenza che le permetteva di spreciare con i suoi amici giusto? beh molte chiamate che avvengono al centralino dei medici potrebbero essere anche con i cerottini comunque utilizziamo lo stato di emergenza ma voi nelle chiamate non brecate soltanto le chiamate che specificano lo stato di emergenza? o sbaglio? noi ce le chiamo qualsiasi chiamata che ci viene data senza neanche il motivo della chiamata esatto dipende c'è scritto soltanto aiuto a volte e se lo vuole lo può anche chiedere tranquillamente al direttore quindi se io andassi dal dottor Conti e gli chiedessi se ha le centrali se le ha le chiamate al centralino i medici si recano anche le chiamate non ho detto senza motivazione ho detto con scritto aiuto e basta senza la specificazione del danno secondo se lei era un ex medio secondo lei la semplice scritta aiuto è una motivazione valida? come abbiamo sempre fatto ci richiamo per verificare effettivamente poi la situazione in stato di emergenza? sì no è vero ho concluso vostro nome prego difesa posso fare dove devo andare all'imputato? prego allora credo che abbiamo già accettato signor Baki che lei stava usando la sirena sulla chiamata diciamo privata diciamo ma signore in questione le richiedeva un compenso di denaro per questa chiamata? negativo è una chiamata di soccorso scusi Cooper scendendo al banco eh sono sceso eh la vediamo sul banco scusi vado vado scusi avvocato posso continuare? prego prego scusi quindi non riceveva nessuna non percepire niente diciamo in cabbio a queste richieste diciamo semplicemente se un suo abito lei richiedeva aiuto giusto? lei andava in soccorso se non aveva altre emergenze o sbaglio? assolutamente sì anche perché nel periodo in cui facevo il tirocinante le fatture non erano ancora attive quindi non ne potrei non avrei potuto richiedere alcun compenso nessun lucro Pietro ok in più diciamo è vietato dall'ospedale andare a una chiamata privata a soccorrere per caso dalle regole dell'ospedale che io sappia che io sappia no che io sappia neanche vostro onore posso fare riferimento a lei su questo magari sa più di me verrà detto alla fine anzi però va bene quindi che cazzo ne so quindi ritorniamo sulla questione che il signore ok stava correndo diciamo su una chiamata che diciamo privata però sempre una richiesta d'aiuto quindi un soccorso un medico quindi non si è fermato a un posto di blocco e non si è fermato al conseguente alt qui diciamo che è stato poi fermato è stato messo in stato di fermo ha pagato la cauzione quello successivamente che ha perso la carriera giusto ormai non è sì mi sono licenziato io mi volevano sospendere ma alla fine ho deciso di licenziarmi perché le cose non sarebbero più andate bene all'interno dell'ospedale e poi un medico non può avere la fedina appena le sporca esattamente quindi diciamo io continuo a ribadire che non vedo l'abuso d'ufficio quindi sempre che il signore qui si dichiara colpevole per questi reati che abbiamo appena allencato e c'è tutto l'abuso d'ufficio perché non non sussiste grazie perfetto accusa vuole controinterrogare no no vostro onore perfetto cancelliere può riaccompagnare il testimone dove va grazie cancelliere sempre una spalla di supporto in clavieri lo fai un attimo tu accusa abbiamo altri testimoni della chiamare in aula sì vostro onore abbiamo l'agente marshal Kakashi Nagata ok pericolo ancedere la compagna del banco per testimoni per cagata silenzio in aula invitiamo questi commenti inopportuni metta la mano sulla bibbia ripeta dopo di me giuro di dire la verità tutta la verità tutta la verità nient'altro che la verità nient'altro che la verità consapevole della mia responsabilità morale giuridica consapevole della mia responsabilità morale giuridica e di non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza e di non nascondere nulla di mia quanta conoscenza mamma mia impatto di inciricarsi prego testimoni si identifichi di innanzi alla corte cosa devo dire nome e cognome sono kagashi nagata agente marshal matricola 021 prego procuratore posso procedere a vostro onore vado vado non parto sto giuro buonasera agente salvo lei rappresenta il posto di blocco in data 29.09 del 2022 ovviamente si procuratore ci puoi dire in che modo è avvenuto il primo avvistamento dell'ambulanza guidata dal signor glory allora il primo avvistamento è stato che abbiamo visto io e gli altri colleghi questa ambulanza sfrecciare e guidare in modo non molto consono stava sfrecciando andando un po' a zig zag no e poi è andato veloce addosso al posto di blocco superandolo insomma ok le volevo chiedere anche in che modo guidasse ma mi ha già incluso tutte e due le mie domande un'altra domanda gente il signor glory ha mai prestato soccorso a tutti quei civili che ha tamponato violentemente ma che stava cosa cazzo fa il signor glory no in quanto li ha tamponati e lui ha continuato per la sua strada interrottamente sempre con la solita motivazione giusto sempre con le serie spiegate quindi sì credo che sia sempre per la solità il signor glory mantenga la calma vendita sovranco grazie quindi sì procura te ok e ci dica signor nagata ma nella sua vita ha mai visto un medico comportarsi in questa maniera io personalmente se no sfrecciare obiezione non sussiste scusate la domanda non è pertinente nella sua vita ha visto cosa uno nella vita può aver visto qualsiasi cosa ma che c'entra bezzene accolta giusto riformuli riformano la domanda mi confermo allora che il comportamento che insomma caratterizzava il signor glory non era pertinente a quello che era il suo ruolo ecco questa giusta no perché potrebbe dire no c'è l'obiezione lui non è un medico quindi non può sapere quando poi mette in pericolo anche gli altri cittadini quello è un altro discorso ma è un pubblico ufficiale sì non è corretto eh sì non è un medico è un pubblico ufficiale la voce e una volta fermato io intendo quando poi lei è giunto sul posto insieme a me e l'altro l'altro collega Marshall dalla chiamata d'emergenza dove ci stava quel ragazzo a terra il signor glory le sembrava spaventato dimostrava qualche particolare emozione obiezione che significa mostrava qualcosa dimostrava qualcosa ognuno è in grado di esprimere i sentimenti in una propria maniera non è un'obiezione consona questa non è un'obiezione valida non ha senso come obiezione ma stai chiedendo un giudizio su quello che potevava sentire una persona nel vedere un'altra persona ferita semplicemente un parere avvocato parere di chi di un esperto psicologo non può fare un'obiezione facendo una domanda continuo procuratore l'obiezione deve essere riformulata se vuole fare l'obiezione che così non ha senso perché la domanda non è pertinente diciamo è una domanda psicologica non si può fare un'obiezione con una domanda avvocato bisogna fare un'obiezione specificando appunto il motivo per cui lei obietta e poi dicendo appunto obietto che la domanda era riferita a un parere sulla gente in base a uno stato d'animo o qualcos'altro che non è pertinente io l'accetterei però deve deve svegliarsi queste obiezioni eh però io l'accetterei eh l'obiezione accettata riformuli procuratore perfetto riformulo la domanda eh una volta arrivati sul posto mh ha notato qualcosa in particolare riguardo soprattutto all'ambulanza beh era alquanto danneggiata eh infatti una certa ho pure detto ma come fa ad andare così in ambulanza era alquanto distrutta sia il posteriore anteriore cioè sia il parorti posteriore che anteriore appunto dovuto dalle grandi botte che ha ricevuto degli altri tamponamenti e poi il comportamento del signor Glory insomma non è stato perfetto perché scendo dall'ambulanza si è andato a soccorrere quello che era il ragazzo però è anche un po' meno freghismo in confronto al danneggiamento che ha dato agli altri cittadini perfetto proprio a questo volevo volevo arrivare quindi eh comunque nonostante il signor Glory abbia tra virgolette eh quasi ucciso perché qui si mette anche a repentaglio la vita di quella dei cittadini in quanto se un'ambulanza sfreccia a 200 km da l'aria tampona una macchina è molto pericoloso per la salute dei cittadini stessi quindi nonostante avesse fatto questa cosa il signor Glory ehm ha enunciato particolari parole al riguardo oppure si è occupato solamente del caso del ragazzo allora a dire la sincera verità questo non me lo ricordo bene io mi ricordo semplicemente che lui è arrivato sul posto è andato dal ragazzo o ragazza adesso non mi ricordo chi era il soggetto insomma che aveva bisogno di delle cure mi ricordo soltanto che ha prestato servizio appunto al cittadino e poi aveva un'altra chiamata quando noi le abbiamo o noi erano i colleghi della della polizia mi ricordo adesso le abbiamo detto di fermarsi un attimo lui si è fermato giusto quanto era 10 secondi 15 secondi e risalito in ambulanza si è riandato in un'altra chiamata perfetto e non ho altro da aggiungere vostro onore perfetto difesa ok agente giusto? esattamente avvocato salve puoi alzare la voce per favore lo sentiamo dalle tribune sto gridando lo posso fare più di così mi dispiace allora agente come funziona la modalità di questi posti di blocco che fate sopra il ponte me la spiega esattamente è un posto di controllo obiezione vostro onore non è pertinente non si tratta del posto di blocco ma del reato dell'imputato no io voglio arrivare a un punto mi serve sapere questo perché voglio arrivare a un punto è tecnica la domanda obiezione respinta vediamo dove vuole arrivare l'avvocato in caso rifaccio l'obiezione poi quindi diciamo come per sapere un posto di blocco o posto di controllo prima di tutto è più che altro un posto di controllo per verificare se il soggetto ha la patente necessaria per guidare il mezzo e poi anche identificativo in caso di mandato di cattura la interromperà quindi mi sto dicendo che non fermate ogni veicolo che passa all'inizio quando stiamo strutturando il posto di blocco no una volta che il posto di blocco è strutturato sì quindi è un posto di blocco non è un posto di controllo sì diciamo di sì non so come definirlo ok adesso parliamo che stiamo su un ponte che è diciamo un'autostrada dove le macchine comunque possono correre fino a 130-140 km per lei ok a quanti metri di distanza dal posto di blocco mettete segnalazioni se mettete segnalazioni all'incirca 20-30 metri no non mettete segnalazioni questo è proprio perché io lo faccio ogni giorno l'avvocato sta rispondendo al posto del test giusto vabbè se ne è accolta vado a rispondermi scusi no le rispondo il il i segnalatori vengono messi 20-30 metri prima del posto di blocco per esempio ieri è stato fatto un posto di blocco e sono stati messi i segnalatori poi questo noi Marshall poi l'SPD l'ANAPD è un altro discorso io le rispondo di quello che faccio quindi sì noi mettiamo i segnalatori il giorno che il signor Pachiglory diciamo ha taborato quest'auto che si è schiazzata sul posto di blocco e tutto c'era la sedialazione me lo conferma un po' viene messo il vostro onore il test ha già risposto a questa domanda ha risposto per ieri non ha risposto per quella con il giorno un attimo secondo te secondo me vorrei spinta non ti hai risposto la domanda era generica era generica la domanda di perivano era generica ok ma no generica è che lui ha chiesto quando è stato fermato il suo cliente e ci sta fare questa domanda ma è natale vero perché lui ha spiegato ha chiesto come un po' mi ha detto i segnalatori fa sì qui si comprende pure quella volta giusto ho fatto questa domanda all'inizio era generica si 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 vuol dire sempre non è che una volta magari l'obiezione accolta riformuli va bene allora faccio direttamente un'altra domanda ok faccio agente visto che mi perdono un attimo signor gloria è più impegnato a guardare il pubblico questo processo se vuole possiamo interrompere qui e possiamo decidere direttamente qui l'esito del processo non ho capito le orecchie comunque ascoltano lo stesso no no devi dare dai guarda la corte grazie Marshall chi ha detto obiezione buttatelo fuori in favore proseguiamo avvocato proseguiamo prego prego un'altra domanda faccio così allora da quanto tempo è il servizio e quali diposti di blocco qui su questo porto obiezione vostro onore non è pertinente con il caso e chi l'ha detto mi faccio arrivare al servizio assalto mi faccio arrivare al punto ma che cazzo non è questa la domanda che devo fare quella è la domanda precisa che ha fatto avvocato quanti posti di blocco il sito dell'agente di questo che possa aver effettuato che voleva arrivare all'altra domanda sinceramente volevo chiedere all'imputato effettivamente quante volte ha visto un'auto schiattarsi sul posto di blocco obiezione vostro onore non è pertinente un attimo stavo pensando un attimo ho capito cosa ha detto è in pratica l'avvocato ha detto obiezione non riesco a sentire il processo c'è gente che fa casino signor Glori conviene evitargli fare battute signor Glori non sono battute ecco si dimiti a chiedere gentilmente il silenzio in aula senza specificare l'obiezione grazie senti una cosa in pratica le persone che possono obiettare in quest'avolo sono l'avvocato e i procuratori affermativo signor giudice ok ora le chiedo di stare in silenzio un attimo che adesso stiamo pensando tra di noi e chiedo gentilmente al pubblico di stare in silenzio grazie in pratica hanno l'avvocato ha chiesto quanti quanti fermi stradali ha fatto lei e quante volte li si sono schiantati addosso che domanda che domanda che cazzo è ma che ne so io non avrò prati 400.000 di fermi stradali Oscar ha obiettato non pertinente ma non è pertinente perché non c'è mica un fermo stradale in questo punto in un segreto video no lui dice fermi stradali nel senso quello il blocco stradale lui dice lui intende il blocco stradale è detto blocco stradale o fermi stradale ma a prescindere non è pertinente non ha senso l'abiezione accolta l'avvocato può riformulare riformuliamo allora l'altra domanda e l'abiezione sono accolta per tutte e due le domande che aveva fatto anche dove voleva arrivare l'avvocato la voce non la sentiamo si 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 ci può chiarare ci può chiarare va bene che stress quindi l'agente l'avvista con verba cioè mi dice quindi che questi posti di blocco sedialati e in questione il giorno X in cui il signor Glori è arrivato a forte velocità si schianta su questo posto di blocco si ferma pochi secondi giusto e riparte conferma? sì e c'è in caffetteria e di questo abbiamo la conferma anche dall'inputato visto che diciamo la conferma ora vorrei capire riguardo alla domanda che l'ha fatto prima l'accusa in quanto lei come ha fatto a determinare che si è fermato nel senso e ha visto che non ci sia gente grave sia andato una chiamata più grave magari avvocato ma l'intende nel posto di blocco o dopo il posto di blocco dove il signore dice che obiezione vostro onore che l'avvocato riformulare la domanda non è chiara sta parlando da mezz'ora non giungendo a un punto riesco a fare la domanda perché mi fa l'obiezione è normale che parlo da mezz'ora faccia una domanda è chiara il signore ha detto che il signor Pachi si è fermato esattamente in dieci secondi e poi si riveste l'ambulanza di partito per una chiamata ok giusto o sbaglio ha detto questo prima ecco ora volevo sapere in quei dieci secondi lei come ha fatto diciamo a vedere che il signore abbia fatto un'omissione di soccorso questo è il punto avvocato l'omissione di soccorso inizia da quando tampona i cittadini sbattendoli contro un muro e lui continua in interrotto senza fermarsi per assicurarsi la certezza dei cittadini di come stanno lì già parte l'omissione di soccorso in quanto lui sia in emergenza ok però in dieci secondi mi dice che è impossibile determinare tutto ciò non sbaglio cioè per me questo è mancato alto obiezione vostro onore contegno polemico madonna immobietta l'altro era una domanda infatti alla gente ho detto per me questo è un mancato alto eh questa non è una domanda avvocato riformuli questo è un commento polemico per lei è un mancato alto obiezione vostro onore cosa c'entra un mancato alto con l'andare a sbattere addosso dei cittadini e non fermarsi qui si tratta di omissione di soccorso la prossima volta che sento una vocina dal pubblico vi faccio sbattere tutti fuori perfetto so chi è stato il 282 282 eh un volo più obiezione un attimo parlo con l'altro giudice ma che cazzo ha detto non l'ho seguito sto cercando di individuare chi fosse stato a parlare allora secondo me manca la domanda ci sta obiezione rispinta vado avvocato perfetto posso avere la risposta se mi riformula la frase per questo iseya ma non sono dimenticata ho detto lei in quei dieci secondi di tempo diciamo come ha potuto determinare un'omissione di soccorso obiezione vostra è perché mi sono perso pure io avvocato scusate ho fatto sette domande facciamo un attimo che ci prendiamo tutti un secondo di pausa adesso rimettiamo le idee tutti in mente tutti riformuliamo le nostre domande le obiezioni faccia questa domanda per lei il fatto che questo signore abbia quasi spondato un po' di blocco e si sia fermato 10 secondi si è ripartito al di là dell'emergenza è un bancato alto aspetta no per me io non lo valuto come un bancato alto non riesce più che usare lei lo valuta come un'omissione di soccorso è sempre un bancato alto l'omissione di soccorso parte quando c'è un cittadino che ha ricevuto dei danni e lui non si ferma un'omissione di soccorso per aver distrutto una barricata o un coso non credo non credo ci sia un'omissione di soccorso insomma era in emergenza costo tanto il problema era guidare pericolosamente era questo il problema lui stava guidando pericolosamente addosso al posto di blocco aspetta che scrivo di 30 io la tia non c'ho non c'ho più no no aspetta aspetta no che scrivo di 30 io la tia scrivi tu e si no clicco un attimo grazie cliccato ormai envilon mandami la clip lasciami il pod visibile sentiamo perfetto accusa vuole vuole controbattere no signora perfetto cancelliere accompagni il test al suo posto abbiamo altri test dai muovi che cazzo ho detto in che senso test vostro onore teste il teste il ah i testimoni intende no negativo a vostro onore difesa abbiamo testimoni purtroppo io non ho potuto perché ho cambiato diciamo l'avvocato Peterson aveva questo caso scendito a bancone grazie l'avvocato Peterson aveva questo caso io ho preso in carica questo caso giusto 5 minuti prima di entrare in tribunale va bene quindi nessun testimone no a vostro onore perfetto accusa nel ring finale allora concludo dicendo che inizialmente l'avvocato essenzialmente sta contestando quello che è il reato principale l'abuso d'ufficio tengo a specificare che inizialmente l'avvocato ha detto chiaramente che l'abuso d'ufficio si verifica quando il soggetto che compie il reato ottiene un vantaggio sfruttando quello che è il suo ruolo ma purtroppo mi duele dirlo ma non è così l'abuso d'ufficio si verifica anche sempre sfruttando il proprio ruolo sarebbe anche un danno a persone altrui e questo lo dice il codice penale quindi proprio per questo il signor Glory ha confermato appunto la nostra versione dicendo che guidava pericolosamente tutto verificabile anche tramite le bodycam in quanto guidava facendo zig zag può vederlo benissimo dal link allegato e poi ha tamponato diversi civili quindi vostro onore come dimostrano anche i documenti il signor Glory ha già diversi reati per mancato alt e guida pericolosa l'imputato oltre ad aver violato tutti quelli che sono i valori morali di un medico ha tentato la vita di diversi civili e ciò secondo noi è inammissibile proprio per questo l'accusa chiede una sanzione pecuniara pari a 90.000 dollari e una pena detentiva pari a 5 anni ha concluso? ho concluso posso prego difesa le sue ringhe finali allora io continuo a ribadire che l'abuso quando ha chiesto 90.000 90.000 50.000 e io abbiamo idee differenti sull'abuso d'ufficio ma questo punto che lei ha detto sul codice penale non l'ho trovato lo andrò a rileggere ma non l'ho trovato io dico che la pena pecuniare è giusta perché il mio cliente è colpevole si è dichiarato colpevole ha collaborato all'interrogatorio non dicevo non ha omesso niente di quello che è stato detto eccetto che non ha effettuato nessun reato d'abuso in quanto neanche il dottore non poteva fare se non più che curare persone né fare fatture quindi lavorava anche diciamo praticamente a gratis poteva essere molto stressato e tutto quindi diciamo però in una clemenza della corte è concluso? sì perfetto ci ritiriamo obiezione il gastro mamma mia che lungo Marshall prego sbrigatemi questo che ha detto obiezione il gastro l'ho buttato fuori a calci in culo ma se lo trovate cosa ne pensi? io mi muto cosa ne pensi? per me è colpevole è andato a 2.000 facciamo una sconto di sconto di dare la pena stanzione peculiar per la presenza per me per quello che è successo in questo processo lui non è cavato nulla nel senso lui a parte essersi girato non è cavato chissà che cosa ha chiesto 90.000? sì potremmo fargli tipo 60.000 invece che 90.000 e 5 anni confermati va bene 65 anni vada 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 canceli vada canceli paura signori e signori si è in più di un'aula presidono John Leveris Clark Foster e Will Gardner buonasera a tutti di nuovo un attimo per l'accusa di abuso d'ufficio da parte della procura verso il signor Pachiglory la corte lo condanna colpevole quello è il cazzo con una sanzione pecuniaria di 60.000 dollari e una pena detentiva di 5 anni la corte si aggiorna la corte si aggiorna mamma mia e di quanto è il mignolo Pachiglory ma ho abiezione voglio fare il castro Pachiglory Marshall mi fa male procedete inammissimile oh Marshall prendetelo 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 signore signori per me che si a si aspetta contro un cane come ringhia ragazzi ci sta era un tic a corso per questione di tic tranquillo torni più forte di prima ragazzi ci becchiamo fra 5 anni contattate aimee santiago contattate aimee santiago senti ma me ricordati che le parole oh oh ma sono lontano guarda sto qua sto di mamma mia cristo santo che roba aspetta che stanno rientrando mamma mia sono scioccato ragazzi per me questa l'hanno preso si l'hanno preso quindi va bene signora ristammiamoci pure sui posti proprio posti per favore avvocato ma lei non sente questo stress che sale in questa sala come possiamo fare dov'è l'imputato? se un imputato si comporta così non so come va a finire in aula di tribunale scappa durante l'arresto è resistenza all'arresto facciamo che la corte ritira ciò che ha appena detto e rifirma la condanna a 90 mila dollari di sanzione pecuniaria e 15 anni di carcere buona serata non cambia niente arrivederci si sta solo 10 anni in più in carcere e ha 30 mila dollari in più di multa arrivederci vabbè non cambia niente e devo fare l'ora la multa arrivederci devo fare l'ora adesso la multa barbettina fammi la multa continua e mi metto pure il trancio vada vada pure il trancio vada facciamo 200 mila dollari secondo me va bene no? 200 mila dollari mi vanno più che bene vai faccia 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 200 mila altro da dire la corte avrei da dire semplicemente una cosa basta perché c'erano due avvocati si esprima perché c'erano due avvocati ma c'era solo uno come si chiama lei scusa no uno o due sono procuratori quindi e perché possono stare in due? possono stare anche in quattro ma mamma mia se funziona male il sistema giudiziario ok perfetto ma lascia sicuramente come ne staccarsi dal signor glory si distanchi se non vuole prendere anche le 200 mila di multa si stanchi dal signor glory ok al glory si attento marcia non vorrei che riprovi a scappare no non sono aggressivo tanto sono manettato non posso neanche utilizzare il mio braccio per scavalcare il muretto ma il tempo che è stato teserato quattro volte è scappato ancora tre 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 volte tre volte perfetto questo è 200 mila dollari di multa signor glory la ringrazio arrivederci arrivederci prego andiamo mamma mia 200 mila dollari di multa tanto ci hanno 20 mila milioni abbiamo un problema ci sono due processi che avevano cioè sono i due che avevano richiesto di farli anticipare e si sono fin dilungati troppo sono e ci sta? lei è tipa la ragazza 017 008 non ci stanno ancora? si ok facciamo prima un tempo distretto il primo è in ordine si ok oh crackfo io ho un processo me lo salto e devo fare una cosa lasciola ci passa che dopo torni ci provo prima possibile solo foster annuncia annuncia solo foster buonasera signori e signori tutti in più di maula processo 017 lo stato contro Sara Maximoff richiedono gli onorevoli Chris Foster e Will Gardner io prendo i cagini di America e questa rispettabile corte ma tu mi senti attraverso la porta o fai finta di non ascoltarmi? no non ti sento vorrei presentare solo a me e rinunciare eh vabbè eh scusatemi cancele se sbagliato presento solo io il processo signori buonasera buonasera a tutti i signori prego accomodatevi buonasera accuse buonasera difesa prego ricominciamo pure accusa buonasera vostro onore buonasera difesa oggi trattiamo il caso di Sara Maximoff e anticipo già che sarò breve la signorina Maximoff ha denunciato due nobilissimi agenti di polizia del dipartimento di Los Santos di sostanza abuso di potere nei suoi confronti ho terminato vostro onore va bene grazie difesa prego procediamo buonasera a tutti comincio col dire che la mia difesa è stata improvvisata dal momento che ci tengo a segnalarlo la porte che l'avvocato Peterson non si è presentato è stata questa situazione diciamo è stata segnalata da più persone perché appunto diversi assistiti si sono ritrovati senza una difesa e senza poter portare prova il processo quindi volevo innanzitutto segnalare questa situazione spiacevole e dopodiché la denuncia diciamo è stata fatta sì dalla signorina appunto con l'ausilio dell'avvocato Peterson io sinceramente non ne conosco potevano chiedere all'unimento del processo perché lui non è reperibile da più giorni mi perdoni se interrompo ma non capisco perché non è stato chiesto di dimandare il processo a questo punto no è perché la signorina aveva già dato notizia del fatto che avesse degli impegni domani mattina presto fuori città si poteva rimandare a stima alla prossima il processo se proprio c'era questo disagio è una questione più che alto di orario ho capito ripeto si poteva rimandare a stima alla prossima se c'era questo disagio appunto del fatto della mancanza dell'avvocato e il problema è che l'avvocato non è reperibile e non non ha organizzato nulla ne ha presentato qualcosa sono giorni che non si rende reperibile purtroppo ho capito ma allora la signorina si poteva mobilitare per trovare un altro avvocato in modo più preciso in modo tale che l'avvocato pensi ha avuto una ripesa procediamo io non so che dire sono d'accordo procediamo pure intanto ormai siamo qui quello che la mia assistita voleva denunciare appunto una situazione spiacevole da lei vissuta sostanzialmente quello che è successo con questi due nobili agenti di polizia è stato che la signorina è stata fermata mentre era a bordo di un veicolo di colore bianco ed è stata fermata mentre diciamo si avvicinava ad un parcheggio dunque stava andando a parcheggiare questo veicolo che le era stato prestato da un ragazzo fuori al centro impieghi sapete bene come è la situazione al centro impieghi è una situazione molto tranquilla si cerca di aiutarsi a vicenda e così via dunque è stato prestato questo veicolo alla signorina e la polizia l'ha fermata senza fare verifica di alcun tipo affermando che quel veicolo fosse stato rubato e lei ovviamente non aveva rubato il veicolo in quanto era stato prestato da questa persona al centro impieghi e da qui diciamo ha cominciato un comportamento non proprio quello che la signorina ha vissuto in modo spiacevole diciamo e sostanzialmente quello che è avvenuto è che i poliziotti l'hanno arrestata e addirittura quando l'hanno portata in cella le hanno detto che speravano marcisse lì cito testualmente e la signorina si è agitata si è nervosita anche perché non avendo rubato il veicolo e non avendo mai commesso il reato si è trovata diciamo una situazione a lei non conosciuta ed è stata perquisita senza fare domande né nulla quando lei aveva diciamo esternato il fatto di voler essere perquisita da una donna siccome non si sentiva a suo agio ma questo non è stato in alcun modo chiesto e dunque la mia assistita ha perso un po' la calma quello che lei e io riconosciamo è che lei appunto possa aver perso la calma in diverse situazioni proprio a causa diciamo del modo in cui si è sentita trattata e sinceramente non so esattamente quali siano le accuse nel senso la mia assistita aveva si sporto denuncia appunto per segnare la situazione non so sinceramente cosa abbia formalizzato il mio collega quindi non posso diciamo aggiungere altro ha un cuso? si ok prego allora accusa abbiamo testimoni da chiamare in aula l'accusa vorrei chiamare l'imputato al banco l'imputato il cancelliere accompagna l'imputato al banco prego metta la mano sulla Bibbia ripeta dopo di me giuro di dire la verità giuro di dire la verità tutta la verità tutta la verità nient'altro che la verità nient'altro che la verità consapevole della mia responsabilità morale e giuridica consapevole della mia responsabilità morale e giuridica e di non nascondere nulla di quanto la mia conoscenza e di non nascondere nulla in quanto la mia conoscenza Bene, prego testimone, si identifichi in aula, grazie Testimone, si identifichi, grazie, gentilmente Testimone Si orina Signorina? Signorina? Senta, non la sentiamo Si identifichi, gentilmente, ragazze Si deve identificare Sono Sara Maximoff Perfetto, prego, popolazione Signorina Maximoff, può raccontare alla corte tutti i presenti Cos'è successo quel giorno? In parte è già stato raccontato E da aggiungere non ho praticamente nulla Sì, ma io le chiedo di riraccontare la storia Ok Praticamente io, uscendo dal centro impieghi Mi è stato prestato questo veicolo Mentre magari avevo bisogno di un passaggio Questo ragazzo mi ha prestato il suo veicolo Poi successivamente sono andata a parcheggiarlo All'garage centrale E mentre entravo dentro il garage C'era la polizia che entrava dietro di me E con le lampeggianti accesi Io non sentendo né sirene né niente Non mi sono preoccupata Comunque nel garage c'erano tante auto Tante persone Non pensavo andassero dietro proprio a me Ho parcheggiato l'auto Ho preso il mio veicolo Ho tirato fuori il veicolo E mentre uscivo dal parcheggio La polizia andando in retro mi va contro E danneggiandomi leggermente il veicolo E chiedo come mai Di stare attenti Di guardare gli specchietti di retrovisori E i poliziotti Gli agenti di polizia Mi dicono È sua l'auto L'auto questa qua parcheggiata Io rispondo Ovviamente Che non è mia Che mi era stata prestata E Se c'era bisogno Cioè Questa qua era la mia auto Avevo tutti i documenti Mi hanno chiesto il documento Ho parcheggiato la mia auto Ho mostrato il documento E Mi hanno detto Guardi l'abbiamo fermata Perché c'è stata una denuncia Riguardo la sua auto Che è stata rubata L'auto che guidavo E Successivamente a questo Io ho Detto Guardi è impossibile Io non ho rubato l'auto E Non mi hanno voluto ascoltare Sono stata Quindi Presa E Arrestata E portata in centrale Successivamente Mi hanno portato In cella Mi hanno perquisito Senza chiedermi Assolutamente Nulla E Io Ovviamente Mi sono Un attimo Ho indietreggiato Ho detto Scusatemi Perché mi state perquisendo Così Senza dirmi nulla Mi ha toccata Non vorrei Non vorrei essere toccata Così Successivamente Vengo risposta Con Va bene Allora La lascerò Marcire qua In carcere Preferisce Marcire qua in carcere Non mi ricordo esattamente Le parole Comunque Simili Si sono Allontanati Poi Ritornano Facendomi la multa E tutto E mandandomi in carcere Io Poi Ho fatto ricorso Non quel giorno stesso Perché non ho avuto modo Ma Uno o due giorni dopo Non mi ricordo esattamente Comunque Successivamente Mi ha avvocato Mi ha mandato Dei messaggi Dicendomi che Io non sono stata collaborativa E quindi Avevo torto E Basta Dopo è sparito Non sono più riuscita A contattarlo E niente Fino ad arrivare oggi Ok Quando Gli agenti L'hanno fermata È stata collaborativa Di confronto Di agenti Oppure È stata ostile È stata ostile No Mi sono innervosita Sì Questo è vero Ma Non ho Cioè Non li ho denunciati Per il fatto Che Io non sia stata collaborativa Ok Non la sento Sì Sto dando i fascicoli Allora Lei ha detto Che non è stata È stata collaborativa Si è innervosita Ma Dalle prove Che abbiamo in possesso Grazie alle bodycam Fornite dagli agenti Si vede che lei Cerca di allontanarsi Dagli agenti di polizia Agenti di polizia Continuano a chiedere Le spiegazioni Sull'auto Che è stata Appunto Rubata Ma lei Invece di essere collaborativa Di farire Le spiegazioni Scusi Interruzione Devo conferire con lei È essenziale È urgente È urgente Un secondo Solo Signori Un attimo Se non è urgente Appena interrotto Un processo Solti Per madafuco Qui fuori Hanno attaccato Un US Mars Quindi sarebbe meglio Sospendere i processi Per Qui fuori Qui fuori È qua davanti Sì sì Qui davanti Abbiamo soggetti Altri soggetti Sono andati via in macchina Potrebbero ritornare Per ora Proseguiamo Se tu Sero tornare Interrumpiamo i processi Ok Potrebbe essere Solo un caso Convoco Delle patrulle LSPD Per darci il supporto Sì Chiamiamo Delle patrulle LSPD Abbiamo altri Mars In servizio Sì sì Li faccio tornare Tutti qui Sì Perdonatemi Procediamo Ok Dicevo Ciò che si vede Nelle bodycam È che lei Non ha Collaborato Con gli agenti Anzi Si è dimostrato Molto ostile E a più volte Tentato di allontanarsi Anche sotto L'avviso Degli agenti Che la intimavano L'alt Finché Un agente Nick Carter Ha dovuto Ammanettarla Sotto la minaccia Di un taser Perché lei Si rifiutava Di collaborare Addirittura Stava anche Prendendo l'auto Per andarsene Beh Assolutamente no Non stavo Prendendo nessuna auto Assolutamente Ho fornito i documenti Come mi hanno detto Semplicemente Non volevo essere Toccata Così Se avessi dovuto Andare in centrale Se sarei dovuta Andare in centrale Sarei andata Ma non Non in quel modo Come volevano Capisco Ma loro sono agenti Di polizia Non la conoscono E queste sono le procedure Che vengono attuate Su chiunque Indipendentemente Dal sesso Detto ciò Perché non ha detto Subito Che l'auto È stata prestata Perché nella denuncia Che lei ha fatto In procura Ha detto Che l'auto Era sua E non entrambi sue Ci deve essere Un malinteso Non lo so Io comunque Non so se dalla registrazione Si è sentito Io l'ho detto Specificato E loro mi hanno Contro Fermate perché Le stava guidando In modo Molto Poco Consono E dal successivo Controllo Hanno Constratato Che il lavoro È risultato Arrbata Perché non ha fatto Nome O ha descritto La persona Che le ha prestato La macchina O il tencello A me È stato detto Diversamente A me Mi hanno detto Guardi Noi l'abbiamo Fermata Perché Aveva l'auto Urbata Non perché Non stavo guidando In modo Consono Non potevo Dire Altro Mi hanno detto Così E io Ho cercato Di spiegare E loro mi hanno detto No Noi abbiamo La denuncia E Noi Sappiamo Quindi Lei deve essere arrestata Io ho chiesto Di far vedere La denuncia Mi hanno detto Guardi Non si può fare E non potevo fare altro Alla fine Poi sono stata Portata in centrale Una volta in centrale Hai chiesto un avvocato? Non mi è stato chiesto Di richiedere un avvocato E Comunque Sono stata lasciata lì Per un bel po' di tempo In cella Quindi non l'hai chiesto? Colpi di arma da fuoco Nella mia posizione E sul momento No Non l'ho chiesto L'ho vocato Come mai Non l'hai chiesto? Perché Mi è stato detto Di marcire in carcere In cella Io Sono Ero un po' nervosa Per quello che era successo E sono rimasta lì Tra i miei pensieri Aspettando che loro tornassero Una volta tornati Mi hanno semplicemente Fatto una multa E mi hanno andato in carcere Assolutamente Sente giudice Di Clark Foster Loro non mi hanno chiesto Esplicitamente Di Se volessi un avvocato Mi chiedevo Forza a chiedertelo Ma lei lo sa che è un suo diritto? Eh Sì Però In quel momento Non l'ho chiesto Perché L'ho già spiegato La situazione È vero oppure no Che lei Ha anche insultato Gli agenti Di polizia? Di quali tipo di insulti? Beh Testa di Puntini puntini Fate il vostro lavoro Puntini puntini Siete incapaci Puntini puntini No Ho detto solamente Di fare il loro lavoro Come si deve Quindi in cielo Lei afferma Di non avere insultato Gli agenti di polizia È corretto? Allora In cella Successivamente Anche dopo La multa E tutto Ho detto Posso dire Che è stato fatto Un lavoro di merda L'ho detto in cella Ma successivamente Dopo che era già Successo tutto Mentre mi stavano Mandando in carcere Ok Ma lei capisce Che ci sono Delle Delle falle Da quello Che sta dicendo adesso E dalla denuncia Che è stata fatta In procura Guardi Io Quando Ho fatto ricorso Ho spiegato Tutto Quanto Quindi Non so Sì Ma se la denuncia C'è scritto Che l'auto Che lei ha parcheggiato La prima volta Era sua E adesso sta dicendo Che l'auto Non è sua Non è stata prestata E può essere Dove è la bugia Qui o Nella denuncia Io le sto dicendo La verità Quindi la denuncia È falsa Io le sto dicendo La verità Le sto dicendo Che può essere Che c'è stato Un malinteso Che ci si è Capiti male Non lo so Però Questa è La verità E lei Pretende Un malinteso Su una denuncia Di un poliziotto Che potrebbe Anche rovinarne La carriera Nella società Di oggi Basta una semplice Accusa Per finire Nel barato Quindi accusare Così a correleggiare Un poliziotto Non mi pare Una cosa Molto Civile Da fare Io non avevo Rubato il veicolo Io ho Sì C'è fatto Ma lei Non ha finito Questa spiegazione Poliziotti Si è limitata A non essere Collaborativa A insultare I poliziotti Per chi facessero Semplicemente Il loro lavoro E la mia 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 Ha chiesto Un avvocato Per difendersi Ho finito Lo stranare Grazie Difesa Perico Facciamo Allora Se nuovi dettagli Emersi Ho poche domande E Fondamentalmente Quello che mi è apparso Di capire È che ci sia stato Un malinteso Tra te E l'avvocato Peterson Corretto? Sì Quindi Tu dichiari Di aver detto L'avvocato Peterson Quello che ha detto A me E quello che ha detto Alla corte Ovvero Che il veicolo Ti era stato prestato L'obbligazione Vostro onore In quanto la denuncia Viene deposta E viene riletta Sia con Il soggetto Che sporge la denuncia Che l'avvocato Presente Quindi al momento In cui c'è una discordanza Il soggetto stesso Può esprimersi E sistemare La denuncia Assieme al suo avvocato L'obbligazione raccolta Poi la contasola E' stata anche Riconvocata La signora In procura Per la contestazione Ripetata Se non ero Giusto avvocato Giusto avvocato Sì sì Esatto Quindi Io sono Ovecsi raccolta Ma l'hai letta Tu la denuncia Cioè Non mi è stata letta Io ho spiegato Mi hanno Mi è stato detto Di raccontare Cosa fosse successo Questo E io ho raccontato Ok E avevi detto Che le auto La tua auto Era quella presa Alla centrale E l'altra auto Cosa avevi dichiarato Eh avevo detto Che non era stata rubata Come avevano detto I poliziotti Ok Mi sembra Leggendo Se ricordo bene Cosa c'è scritto Sulla dichiarazione Che Fondamentalmente Tu hai detto L'auto non è stata rubata E loro hanno assunto Che allora fosse Di tua proprietà È possibile Abiezioni Congettura La congettura È quella che è stata fatta In sede Sì è congettura Signorino ha dichiarato Che le auto Era una sua L'ha dichiarato Sì Sì è congettura Ti ricordi Di averlo dichiarato Lo sento Sta dicendo cose Su cose infondate Io mi ricordo di aver Stato parlando Cazzate su Infondate Se era successo Se Si è dichiarato Una cosa del genere Non era in me Perché L'auto Non era effettivamente Miato Quindi L'ho detto Anche ai poliziotti Ok Per ora Andiamo avanti Io penso Non eri spinta Per il resto Tu confermi La tua versione Che penso sia stata Anche Confermata Dalle body cam Ovvero che la polizia Ti aveva tamponato E tu Ti eri nervosita Per questo motivo Giusto Sì esatto Ok E Dopodiché Appunto Loro ti hanno detto Fatto domande Su questo veicolo Di colore bianco E tu in quella sede Cosa avevi detto I poliziotti Io avevo detto I poliziotti Che l'auto Non era mia E che mi era Stata prestata Però a quanto pare A loro Non sembrava Fregarsene Perché Erano convinti Della loro denuncia Cioè Della denuncia Che era stata fatta A riguardo Di quel veicolo Ok Quindi Esiste Una denuncia Su questo veicolo Di colore bianco Almeno Per quanto ne sai tu Non lo so Io ho chiesto Se si poteva sapere Chi è che ha denunciato Dal veicolo Magari si poteva Capire un po' meglio La situazione Mi è stato detto Che non si è tenuti A A mostrare Le denunce Ok Dopodiché Si è stata perquisita Senza abisso Senza nulla Il poliziotto Raccontami meglio Cos'è avvenuto Quando si è stata perquisita Niente Semplicemente Il poliziotto è entrato In mincella Mi ha chiesto Di fargli vedere Il documento Mi ha rifatto La foto al documento Perché mi ha detto Che non era valido Dopodiché Ha preso E mi ha perquisito E Senza che Dirmi nulla Praticamente Ok E te l'ha cosa Dato fastidio? Eh si Gliel'ho fatto anche notare E Lui mi ha risposto Anche male Cosa ti è stato risposto? Cosa ti è stato risposto? Quando gli hai fatto notare Che ti aveva dato fastidio Il fatto che lui ti avesse Perquisito? Che Sarei dovuta Amarcire Lì in cello Ed è stato questo La fatte innervosire Ulteriormente? Sì Ok Quindi Dopo Diciamo Questa Dopo aver ricevuto Diciamo questa perquisizione Ti sei innervosita? Eh sì Abbastanza Eh Dopodiché Che è successo? Dopodiché Sono stata lasciata lì E avevo anche fame Però poi Comunque Quando sono tornata Ho chiesto del cibo Quindi Dopo un po' di tempo Sono tornata Mi hanno dato da mangiare Quindi Su quello Nessun problema Ok Che Poi non sono stata più Riperquisita Quindi hanno tenuto conto Della perquisizione Tenuta da lui Quindi a quanto fare Mi aveva già perquisito Fino in fondo E E E Sono stata mandata in carcere Ok Vostro onore Richiedo che l'ultima risposta Del test Non venga ritenuta valida In quanto Dalle bodycam Si evince Chiaramente Che uno dei due agenti Di polizia Gli dice Eh Al momento in cui sta Eh Procedendo alla perquisizione Appunto Che sta facendo Questa suddetta Perquisizione Ciò si evince Dalle bodycam Ma non ci sta Eh Si La dice nel momento Esatto E mi mette le mani addosso Non è Proprio Un atto Che avete le bodycam Non hanno contestazione Da Le bodycam Sono fondi Che la può controllare Benissimo Lei stessa La possiamo visionare Anche in questa aula Le prove Vengono consegnate Per questo motivo E Il problema È che io Non ero l'avvocato Dell'assessore Il procuratore Io non vedo le bodycam Tra i reperti One second Non ci sono Bodycam Ah no Confermo Io Altrimenti L'avevi sognato Non ci posso credere Che cretini Mamma mia Ragazzi Ora guarda come lo aggiungono Adesso No ci sono No non posso Non sono state aggiunte C'è stato un errore Evidentemente A livello di creazione Di quale che sono Le prove E dunque Mi può dire L'avvocato Quindi Stavamo dicendo Prima dell'interruzione Che il suo comportamento Nervositolo Se l'avvocato è bravo Si gira e mi dice Giudice Io chiedo L'annullamento Del processo In quanto Non sono presenti Prove di calunia Dopodiché Mi appasso di capire Che l'avvocato Si gira Al fine processo L'avvocato Mi presenta In senso che Al di là del nervosismo Io chiedo L'assoluzione A tutti Che di tutte L'accusa Del mio assistito In quanto Non sono presenti Prove Se mi chiede Questo Io Assolvo Ok Fallo Ti prego Se me lo chiede Bene Io ho Per domande Bene Perfetto Imputato Può tornare A suo posto Grazie Imputato Può tornare A suo posto Grazie Grazie Accusa Abbiamo avanti Testimone Da chiamare in aula Sì Va a richiamare L'agente Aved Soleimani Presente Prego Il cane Che cammina Signori No No Juno Vai Vai da Nick 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 Vieni a prendere Juno Sì Agenti Tenete Abba dal cane Per favore Se posso Lo venga a prendere Scusate Sì Venga a prenderlo Grazie Giuro Ecco Scusate Sì Dicevamo Metta la mano sulla Bibbia Ripeta dopo di me Giuro di dire la verità Giuro di dire la verità Tutta la verità Tutta la verità Nient'altro che la verità Nient'altro che la verità Consapevole della mia responsabilità morale e giuridica Consapevole della mia responsabilità morale e giuridica E di non nascondere nulla di quanto è la mia conoscenza E di non nascondere nulla di quanto è la mia conoscenza Bene imputato Sì Bene Testimone Si identifichi Sono l'agente Ahmed Sulemani Matricola 036 Perfetto Prego accusa Procediamo Buonasera agente Ci vuoi raccontare il suo punto di vista? Allora sì Noi eravamo in quello che è il normale servizio di pattugliamento Sulla nostra pattuglia Eravamo all'incirca sul ponte civico 222 Quello che parte vicino allo Starbucks E stavamo andando lato centroimpieghi Nella corsia opposta a un certo punto vediamo questa macchina decappottabile bianca Che sfreccia verso lo Starbucks In quel momento accendiamo i lampeggianti Facciamo un'inversione AU E ci dirigiamo verso lo Starbucks appunto Comunque è tempo di fare questa inversione AU E di arrivare allo Starbucks Questa macchina appunto era arrivata già nei pressi del garage centrale Quindi garage centrale sì Do un colpo di sirena Ero io l'autista mentre il collega Carter era al capopattuglia E questa macchina entra nel parcheggio E si accossa nel primo parcheggio sulla destra A quel punto io prendo e mi accosto di lato Scende questa signorina Che al posto di fermarsi e parlare con noi Prende e va verso il garage Arrivata al garage Prende il suo veicolo di proprietà E parte Direzione uscita del garage A quel punto io ingrano la retro Cercando di bloccare la signorina E urto il fanalino posteriore e sinistra della macchina della signorina La signorina scende E se non mi ricordo male Inizia appunto a contestare il fatto Che l'avessimo urtata Comunque una volta Nel senso mentre la signorina appunto ci contestava questo fatto Il collega Carter Gli dice appunto Vada al Bendis o da qualsiasi meccanico Si faccia fare la fattura Vada in procura Con la fattura E a quel punto Provederemo al risarcimento Senza alcun problema A quel punto Chiediamo i documenti Alla signorina Partendo se non mi sbaglio appunto Dalla patente O comunque dalla carta d'identità E la signorina Mi ricordo che Aveva il documento Che comunque non era Visibile Non era valido In quanto non si vedeva la sua faccia La foto era fatta male E Al controllo patente È risultata senza patente Di tipo B Che serve per guidare appunto La macchina A quel punto Sempre attenendoci al protocollo Chiediamo alla signorina Se il veicolo fosse suo La signorina risponde A noi Che il veicolo Gli era stato prestato Quindi Come normale prassi Di un agente di polizia Chiediamo nome e cognome Dell'intestatario del veicolo E che la signorina Comunque riferisce Che gli sia stato prestato La signorina Dice di non sapere questo nome Allora io Avvisando il collega Ho proceduto Al controllo Della targa Del primo veicolo Che gli dava la signorina E risultava Non intestato a nessuno Quindi Proprietario sconosciuto Proprietario sconosciuto Dopodiché Tornando Sempre Verso il collega Avevo notato che Più o meno Diciamo La discussione Sera accesa E Mentre noi stavamo parlando Con la signorina La signorina La signorina Prende E inizia a camminare Andandosene via da noi In quel momento Il collega L'è andato A dietro a piedi Io invece Sono salito Sulla pattuglia E ho fatto il giro Con la pattuglia Dopodiché Il collega Constatando ovviamente Che Il documento Non era valido Perché La patente Non ce l'aveva Ha proceduto A metterla In stato di arresto Citando Come prassi Il Miranda Warning Che prevede appunto Anche Nel caso La richiesta Dall'avvocato Da parte Dell'arrestato Dopodiché Abbiamo chiesto Alla signorina Più e più volte Di salire in macchina Sulla volante La signorina Più e più volte Si è rifiutata Sempre in mezzo Contro di noi O comunque Contestano E allora lì Il collega Ha proceduto Con la menore Alle plassi A prenderla sotto braccio E a metterla Nella pattuglia E da lì La signorina Ha iniziato a dire Che Facevamo Busa di potere Non sapevamo Fare il nostro lavoro Non potevamo Non potevamo Fermarla Identificarla Dentro Al garage E lì Io ho risposto Alla signorina Sempre in tono Molto pagato Comunque Senza agitarmi Né nulla Che essendo Comunque Un agente di polizia Non essendo Una proprietà privata Potevamo Insomma Fermare Identificarla E soprattutto Noi la volevamo Identificare Perché come detto Prima La signorina Comunque Andava a velocità Abbastanza sostenuta Presso Presso il garage Centrale E quindi Il fermo Principalmente Era per quel motivo Lì Dopodiché Una volta portata Presso La centrale Di polizia L'abbiamo fatta Scendere Dalla macchina E anche lì La signorina Posto resistenza Perché noi Gli chiedevamo Di entrare Appunto Per andare Nelle celle E lei continuava A dirci Che non sarebbe Entrata Anche lì Dopo Un paio di volte Che gli è stato Ripetuto E tutto Ho detto io Al collega Basta discutere Prendila sotto braccio Portiamola dentro Una volta Arrivati Nelle celle La signorina Ha continuato A invegliere Contro di noi E quindi A quel punto Abbiamo deciso Per dieci minuti Un quarto d'ora Massimo Di lasciarla da sola E di lasciarla svolire Dopodiché Dopo questi dieci minuti Quarto d'ora Siamo tornati Dalla signorina La signorina Mi ricordo Che era sdraiata Sul lettino Presente in cella È scesa E il collega Avvicinandosi Gli ha detto Signorina La devo perquisire E oltretutto È comunque Normale Prassi Dato che In una zona militare Dobbiamo perquisire Essendo anche La centrale di polizia Dopodiché Mentre Il collega Le stava Perquisendo Le tasche La signorina In modo un po' Scontroso Ha risposto Che noi Non la potevamo Perquisire Che dovevamo Aspettare Un agente donna E allora Lì O il collega Gli abbiamo detto Guardi Se l'agente donna In servizio Non c'è Quindi Noi la dobbiamo Lasciare qua È comunque Normale Prassi Che qualora Il soggetto Chieda una cosa Del genere E non si possa fare Può essere trattenuto Fino a 48 ore La signorina Comunque Non ci ha chiesto Un avvocato Né nulla Quindi il collega Ha proceduto Alle varie multe Per la guida Senza patente L'eccesso Di velocità E quant'altro Dopodiché La signorina Prima che venissero I secondini Non ha detto Che Abbiamo fatto Il lavoro Di merda Ma Ci ha etichettato Dandoci dei pezzi Di merda E continuando A dire Che abbiamo fatto Abuso di potere E tutte queste cose qua Quando invece Io e il collega Abbiamo solo seguito I protocolli Presenti All'interno Del dipartimento Di polizia Ok Ma il protocollo Che Prevede la perquisizione Vale per tutti Giusto In centrale di polizia Allora Allora Noi Da protocollo Qualora Un soggetto Che sia Uomo O donna Varchi La zona militare È soggetto A perquisizione Indipendentemente Da che sia Uomo O donna Ok Sì Diciamo Che è stata Poco collaborativa Ma già dal momento In cui l'avevano Fermata Al garage Centrale Ok Ha tentato Di dare Spiegazioni Sull'auto Io La signorina No Lei a voi La signorina A noi Ci ha detto Che era stata Prestata Noi di solito Da prassi E questo Dico da prassi E non da protocollo Chiediamo Dato che la signorina Ci dice che è prestata Può essere che Realmente Gli è stata prestata Quindi chiediamo Nome e cognome Di chi l'ha prestata La signorina Non lo sapeva Quindi noi abbiamo Proceduto Da normale protocollo Qualora La signorina Avesse detto Sì Ma l'ha prestata Marco Rossi Gli avremmo detto Signorina Lo contatti Gli dica di venire Qua sul posto E vediamo Se così È vero Come dice lei Questo succede Normalmente Ma la signorina Non sapendo il nome Non avendo la patente Non avendo un documento Di riconoscimento Valido Capisce che Non potevamo Stabilire Se le fosse Stato prestato Realmente Quel veicolo O no Quindi In sostanza La signorina Non aveva un documento Di riconoscimento Nelle sue tasche E aveva anche Un auto di proprietà Giusto? Sì La signorina Dopo che è scesa Dall'auto bianca Per cui noi Alla fine L'abbiamo seguita Dato che andava Abbastanza veloce A velocità sostenuta Dal garage Ha tirato fuori Il veicolo di proprietà E a noi Questa cosa C'è insospettito Perché ci chiedevamo Appunto Com'è possibile Che la signora La signorina Non avesse la patente Ma avesse il veicolo Di proprietà Ok Può essere Che la signorina Stessa Abbia rubato Il veicolo? Allora Sicuramente Quello bianco Sì Perché Noi possiamo Controllare La targa Tramite tablet La procedura È stato fatto Come si vede Nella bodycam Del collega Sono stato io Che gli ho detto Vado un attimo A controllare una cosa E mi sono diretta Versa la macchina La macchina Di proprietà Invece Che era una jugular Se non mi sbaglio L'ha proprio tirata Fuori dal garage Quindi sicuramente Era intestata La signorina Ok Una volta Che l'avete fermata Quanto tempo Siete stati Lì A convincerla Saline Sulla volante? Se non mi ricordo male Dai 5 Ai 10 minuti Adesso Non mi ricordo Esattamente Comunque C'è stata Una discussione Per l'appunto Perché prima La signorina Si lamentava Appunto Che l'avessimo Diciamo Tamponata Poi gli abbiamo Chiesto i documenti E è iniziato Un attimo Ripeto Inveire Dicendo che noi Lì non la potevamo Fermare Perché era un garage E così via Ok Anche Tentato di scappare? Scappare No Diciamo che Si è allontanata Camminando Da noi E appunto Come le dicevo prima Il collega L'è andato dietro a piedi E io ho preso la pattuglia Che ha fatto il giro Diciamo che non si è messa A correre Si è allontanata Perfetto Ho finito il vostro nome Bene Difesa Prego Se vuole intervenire Perfetto Buonasera 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 Allora io avrei Un attimo Delle domande Certo Qualcosa che non mi quadra Di quello che ha detto Allora Arrivo subito Dammi due minuti Fermata Perché Voi avete visto La sua auto Che sfrecciava Verso lo Starbucks No Non la sua auto Io ho detto La macchina bianca La signorina Era su una macchina bianca Decapottabile Sul ponte Che Diciamo Vicino Allo Starbucks Ma lei prima ha detto Che sfrecciava Verso la città Non testualmente Sì A velocità Abbastanza sostenuta Ok Diciamo Non sono Al limite di velocità Che Quindi è stato questo Il motivo Dell'intervento iniziale Sì Era quello Che doveva essere Un semplice fermo stradale Un eccesso di velocità Sì Un eccesso di velocità Che però Non l'è stato contestato Diciamo A questo non mi ricordo Perché le multe Le ha fatte il collega No Ha letto prima Ok Sì Ma se non mi sbaglio L'è stato contestato Appunto Perché Diciamo Che Abbiamo voluto Contestare Anche quello Cioè su quello Siamo passati sopra Perché il grave Che domanda Io ho fatto Non lo so Seguendo molto Anche perché Se fosse stato Un semplice Ccesso di velocità La signorina Avrebbe preso la multa E se ne sarebbe andata Come protocollo Della polizia Dopodiché Lei mi ha detto Che nei pressi Dello Starbucks La signorina Guidava In modo Un po' Come che ha detto Non consono Non mi ricordo No Le ho detto Ripeto La signorina Noi L'abbiamo Incrociata Sul ponte Civico 222 Il ponte vicino Allo Starbucks Più o meno Metà ponte Dopodiché Noi abbiamo fatto Inversione E siamo arrivati A fermarla Che lei era già Al garage Centrale Ok Questo ho detto E dopodiché Mi spieghi un po' Meglio Questa Questa terminologia Questa terminologia Dopodiché 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 Poi le avete dato Il furto di veicolo E questo che non mi quadro Non può essere Che questo veicolo Le fosse stato Il vostro onore Richiedo che il test Finisca e rispondere La domanda In quanto L'avvocato Vi sta fornendo La risposta Non so fornendo La risposta Ma proceda pure È molto simile Una risposta Non l'avevo fatto Fui una domanda E si fermi Gentilmente Aspettando Che il testimone Risponda Stavo dicendo Non è possibile Quindi Che questo veicolo Non fosse stato rubato Allora A protocollo Di polizia Qualora Un agente Di polizia Trovi Una persona Che guida Un veicolo Dal proprietario Sconosciuto Di cui Non può fornire Le generalità E quant'altro È un furto Di veicolo Quindi Se è uno sconosciuto Mi presta un'auto Io non so Il suo nome e cognome Furto di veicolo Giusto? Io faccio rispettare Le leggi Non è una cosa Che stabilisco Io No certo Sto chiedendo Sto chiedendo Non è una contestazione Sto chiedendo No È normale Protocollo Ma lo fanno Penso tutti gli agenti Della città Credo Ok Dopodiché Non ho ben chiaro Esattamente In che modo La signorina Abbia Inveito Contro di voi Nel senso Capisco Diciamo La resistenza All'arresto Che mi sembra Evidente Ok Almeno Diciamo Sentendo Quello che ha raccontato lei Quello che non capisco E soprattutto Che non mi quadra E in che modo La signora La signorina Vi abbia oltraggiato Beh Dicendo Che non sappiamo Fare il nostro lavoro Dicendo Che siamo Dei pezzi Di merda Ma queste cose Si vedono Sulla GoPro Che non è stata consegnata Sicuramente Quella Dei pezzi Di merda Si vede Perché il collega Carter Era in GoPro Noi comunque La GoPro L'abbiamo consegnata Poi di quello Che ci sia stato fatto Non si sa Si è persa Questa Diciamo Ok Dopodiché Un'altra cosa Che non mi quadra Sulla sua deposizione Lei inizialmente Aveva detto Che la signorina Aveva un documento Di riconoscimento Cioè la carta d'identità Con una fotografia Scattata male Si Non so se Cioè la foto Era di colore nero Quindi sostanzialmente Era un documento Non valido No c'è solo La foto aggiornata Se mi ricordo Ma non era questo Il punto Il punto era Che Dopodiché Prima la procurazione Ce l'ha chiesto Citando Che il documento Di riconoscimento Non era presente Quindi era strano Che avesse un veicolo E lei ha risposto Di sì No No Attenzione Negativo Non è stata fatta Questa domanda Si trattava di una patente Non di lui Procuratore Non risponda Interrompa l'avvocato E' stato detto Documento di riconoscimento Quindi lei mi conferma Però che la signorina Aveva il documento Di riconoscimento No E le confermo anche Che io prima Tessuali parole Ho detto Non aveva la patente E a noi appunto Ci è risultato strano Come potesse Non avere la patente E avere un veicolo Di proprietà Ok Quindi è strano Il fatto della patente È strano Che una persona Non abbia La patente Della macchina Al concessionario Chiedono i documenti Generici Non chiedono la patente Comunque Tornando Alle domande Quindi la signorina Comunque non ha provato A scappare Giusto? No A scappare no Però diciamo Che più volte Gli è stato chiesto Di salire sulla pattuglia E non c'è salita Di sua spontanea volontà E più volte Arrivati in centrale Gli abbiamo chiesto Di entrare All'interno della centrale E anche lì L'abbiamo dovuta Prendere sotto braccio Perché non voleva Sentire ragione E oltretutto Mi ricordo anche Che la signorina Mentre il collega La portava dentro Si continuava a lamentare Che noi La stessimo strattonando Ma non è assolutamente vero Come tutte le persone Che noi scortiamo Sotto braccio Viene solo presa Sotto braccio E scortata nelle celle Forse la signorina Si riferiva al fatto Che lei Dato che Prima di tutto Ha già dichiarato Che si era nervosita E poi Non essendo pienamente Consenziente Diciamo Forse Nel senso Lei ha posto resistenza E dunque Lo strattonamento Deriva dal fatto Ci fossero due forze opposte In quel momento Questo non lo posso dire Perché Non sono né un medico Né un psicologo No no Assolutamente Sono un agente di polizia Quindi Il mio dovere È quello di far rispettare Le leggi E di eseguire i protocolli Assolutamente Sono un attimo Facendo mente locale Mi scusi Un'altra domanda Riguarda appunto Questo protocollo Allora Una persona Di sesso femminile Chiedesse di essere Perquisita Da un agente Di sesso femminile Lei ha detto Che Dato che Non c'erano Donne In quel momento In servizio Non si poteva fare Altrimenti E altrimenti Avrebbe dovuto Attendere Un massimo Di 48 ore Diciamo Di sì Che In quel momento Non era presente Nessuna gente Femmina Donna Quindi C'eravamo solo io Il collega C'era un terzo collega Che comunque Era comunque Sempre un uomo Cuba Buonasera Però Nulla toglie Che nel momento In cui Una persona Ripeto Che sia uomo Donna Varchi La zona militare Per un motivo Per un altro Deve essere perquisita No assolutamente Un altro Un altro dubbio Lei si ricorda Più o meno Quanto tempo È trascorso Da quando Il suo collega Ha comunicato Alla signorina Che la stava Per perquisire È la perquisizione Stessa È passato Uno Due secondi Ok Quindi Cioè diciamo Che la frase Della signorina Non è venuta Subito Proprio Mentre il collega Le stava mettendo Le mani in tasca Ma Diciamo Nella frazione Di secondo dopo Ecco Ha avuto Un momento Diciamo Di realizzazione Perché Per quanto Io lo chiedo Perché Per quanto Mi ha riferito Alla mia cliente Lei non ha sentito Il suo collega Che appunto Le comunicava Questa cosa Dunque Da qui È partito Il disguito Diciamo Non è carino Comunque Farsi mettere Le mani addosso Senza Una comunicazione Preventiva Ecco Guardi Le posso assicurare Perché io Comunque Non ero lontano Ero dietro Al mio collega Fuori dalla Dalla Scella Non è che il suo collega Stava forse Sussurrando In quel momento Dunque Lei ha sentito E la signorina No Mi ricordo Che comunque Erano vicini Perché comunque Il collega Stava per eseguire La perquisizione Era già all'interno Della cella Sì sì È come Da protocollo Diciamo Sia per non affollare La cella Eccetera Un collega Sta dentro E l'altro Sta comunque Lì fuori Quindi Però è possibile Che La signorina Possa non aver sentito Il collega Che le desse Questa comunicazione Guardi Io le dico Era molto vicino E se non mi ricordo male E la signorina Poi ha anche Protestato Su questa cosa Mamma mia Stai continuando A ripeter Queste cose Mi ha detto Mi ha detto Ad ha protestato Durante Perché appunto Quello che le mi ha detto Non era stato Notificato Diciamo che Mi spiego meglio Ma se fossi L'avvocato Azzarderei Dicendo Questi frenti Riletto La denuncia Una terza visione Una terza visione Diversa Sì da una parte Che dall'altra Guardi Le ripeto Io le posso L'unica cosa Che le posso Solo dire La signorina Le ripeto Non so se ha sentito Però Il collega Citando testuali parole Ha detto Signorina La sto per perquisire Io L'ho sentito Eh Forse Le no Comunque La ringrazio Le mie domande Sono finite Bene Prego Puoi tornare al posto Il testimone Grazie Accusa Abbiamo altri testimoni A chiamare No Vostro amore Difesa Abbiamo testimoni A chiamare Da parte vostra Non abbiamo avuto Il tempo Dunque no Perfetto Allora Accusa Prego Con le ringhe finali Ok Prima di iniziare Vorrei anche Aggiungere Il capo di imputazione Di falsa testimonianza La signorina Maximoff In quanto Durante la denuncia Ha dichiarato Che sia il veicolo Bianco Che il veicolo Che ha Trove fuori La garage Fossero di sua proprietà Invece al banco Ha dichiarato Che il veicolo Bianco È stato invece Prestato Da uno sconosciuto Detto ciò Qui ci troviamo Praticamente davanti A un Peretto di calunnia In quanto gli agenti Hanno semplicemente Applicato Quello Che il protocollo Che insegnano In polizia E che quindi Non c'è stato Nessun abuso Da parte degli agenti In centrale Il protocollo Parla chiaro Che tutti Devono essere perquisiti Certo Magari Qualcuno Ha una preferenza Una donna Volesse perquisita Da un'altra donna Ma è chiaro Che questo Non può essere Sempre possibile Quindi anche qualora Un uomo Perquisita Una donna Con o senza Consenso Siamo comunque Di fronte A una persona Che viene arrestata E non possiamo Stare Certo Stare dietro A quello Che vuole L'imputato Detto ciò L'accusa Chiede Centomila dollari Di Sanzione Peruniaria E tre mesi Di Penale Identiva Concluso Bene Prego Difesa Procediamo Con le vostre Ringhe finali Sì Sostanzialmente Ho poco Da dire Perché Diciamo che Tutto il processo È stato Voglio dire Improvvisato Però Non c'è parte Dei fatti Non lo puoi accettare Per quanto riguarda Il reato Di falsa testimonianza Sostanzialmente Io ritengo Che ci sia stato Un fraintendimento Tra La mia imputata E l'avvocato Peterson Lei non ha avuto Modo di Rileggere La denuncia E anche L'agente di polizia Ha testimoniato Affermando appunto Che Lei dal primo momento Affermasse Che quell'auto Non era di sua proprietà Ma l'era stata Prestata Dunque sarebbe stato Strano Diciamo Cambiare versione Improvvisamente Dopodiché Tornare a quella Iniziale Non avrebbe avuto Senso A mio parere Tuttavia Mi rendo conto Che ci sono Delle carte Che parlano Purtroppo Quindi Per questo Diciamo Ce la prenderemo Con L'avvocato Peterson E Sinceramente Sono d'accordo Con quanto proposto Dall'accusa Dunque Non Vedo Perché aggiungere Altro Bene Mi ritiro Per deliberare Da un processo Totalmente a suo favore È diventato Un Boh Vuoi la mia Vuoi la mia Abbasso 80.000 Va Per questo Presente Va bene Era Sì Vai Vai Entra Signore Signore Contenti Di Maula Precede L'onorevole Scher Foster Non Ti Siete Non sto Parlando Bene Buonasera Prego Accumulate Vi Grazie Allora La Corte A seguito Del processo Ottenuto In questo Momento Data La collaborazione Della signorina Maximoff Presentandosi In tribunale E La Corte Riconosce Anche la difficoltà Nella difesa Dichiara Comunque Colpevole La signorina Maximoff Per i reati Di chiesti Della accusa E la condanna A una sanzione Pecuniaria Pari A 80.000 Dollari E una pena Detentiva Pari A 3 Mesi Con questo Tutto L'udienza È sciolta Silenzioso Giudice Signorina Maximoff Prego Vengo qui Che faccio La stanzione Pecuniaria Grazie Buona Buona serata Vitale Vitale Scusate Dovete restarla La signorina Eh sì Ti volevo avere Sì Dammi un secondo Marshall Prego Procedete a portare La signorina In carcere Marshall Vai vieni dentro Vai Fai Incomodare Quei il prossimo Dimmi Chi era Quell'altro Presente Eh sì Prima che mi interrompessero E Tony Sfera 0-0 Venga Venga Il banco Venga Il banco Della difesa Tony Sfera E il suo avvocato Buonasera Signore e signori Tutti in tv In aula Processo 008 Lo stato contro Tony Sfera Preside Preside L'onorevole Charles Foster Dio benedica I Stati Uniti America E questa rispettabile Corte Buonasera a tutti Signori Precomodiamoci Grazie Buonasera Accusa Buonasera Difesa Iniziamo pure Prego Grazie Vostro onore Oggi trattiamo Il caso 008 Il soggetto Chiamato Anche Tony Sfera È accusato Di possesso Di denaro Non tracciabile In quanto Si è legato In procura Adesso La data esatta Dovrei prendere In mano I rapporti Mi viene difficile Averla Assieme a due Soggetti Che dovevano Sporgere appunto Una denuncia In procura E Ha richiesto Anche lui Di entrare Verso gli uffici Come dal normale Prassi Entrando in una Zona federale Ovvero quello Che è l'ufficio Di difesa Della città Di New York È stato Perquisito E assieme Al suo corpo È stato Perquisito Anche il suo Zaino Come è stato Aperto Questo zaino È saltato Subito All'occhio Un grosso Problema All'occhio Dei Marshall Ovvero Che questo Zaino Era colmo E per colmo Intendo letteralmente Colmo Di contanti Questa cifra Si aggirava All'incirca Intorno ai 620.000 Dollari 625.000 Adesso la cifra esatta Non me lo ricordo Diciamo che comunque Si trattava di una cifra Superiore a 600.000 dollari Che ho battuto Personalmente Quella sera All'interno Di una macchinetta Per appunto Controllare Se il denaro Innanzitutto Fosse tracciabile Cosa che È risultato Negativo E quindi si trattava Del contante Illecito In quanto Non è stato Rinvenuto Un vero e proprio Tra chi disse Così lo possiamo chiamare Della suddetta Banconota E appunto Il soggetto È stato Successivamente Arrestato Dal dipartimento Di New York Chiamato Sotto mio ordine E portato In quelle che Sono le celle Della centrale Dove poi È saltato fuori Un interrogatorio Dove poi Arriveremo a parlarne Però dopo Con il test La mia ringa iniziale Vostro onore È finita Bene Prego difesa Prossimo Con le vostre Ringhe Iniziali Buonasera 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 La corte Innanzitutto Complimenti Al procuratore Per aver controllato Oltre 600.000 dollari In 20 minuti Con tutti i seriali Veramente Mie complimenti Fatto questo preambolo Mi appello Alla sentenza Della US Supreme Court Del 1961 Più precisamente Del 19 giugno 1961 Del caso MEP Contra lo Stato Dell'Ohio Secondo cui Tutte le prove Ottenute Mediante una Perquisizione Sequestra In violazione Della Costituzione Federale Sono inammissibili In un processo penale In un tribunale Statale E ora vi andrò A spiegare Il mio punto di vista Che è il punto di vista Della legge Degli Stati Uniti D'America Come? Cosa? Mi sono perso Come? Non ho capito Puoi ripetere un attimo L'ultima parte? Sì Per me tutte le prove Ottenute Dice questa sentenza Della 61 Mediante perquisizione Sequestra In violazione Della Costituzione Federale Non sono ammissibili In un processo penale In un tribunale E ora vi spiego Il motivo Il motivo è questo Il signore è stato Perquisito Quando è entrato La prima volta Da una donna La Marshall E Nessuno Ha detto nulla Riguardo a questo Borsone Quando il signore È uscito Praticamente È stato detto Ma il signore Qui poi è stato Perquisito No? E dicono Sì sì Il signore Il signore Mi ha esistito Il signore Sfera Essendo in buona fede Dice Ma tranquillamente Potete perquisirmi E in questa poi Seconda volta Sono stati diciamo Rinotati Questi soldi Anche perché in procura Tranquillamente Si può entrare Con dei soldi Dato che Si va anche a pagare Le tasse Quindi è comunque Una normalità Non è qualcosa Di anormale Praticamente Poi da lì Senza dire nulla Al mio cliente Sono stati Preso questo borsone Non è stato detto nulla Sono stati controllati Alla fine del controllo È stato quindi Arrestato Senza quindi Esseregli data La possibilità Di chiamare un avvocato Ma comunque Ora Vi spiego un po' Come funziona Il codice penale Americano In pratica La nostra Caratteristica È quello che Il nostro sistema Processuale È accusatorio In contrapposizione Al sistema Inquisitorio Europeo Del vecchio continente Secondo cui Un imputato Può venire interrogato Anche in segreto Per ore e ore di seguito Senza avere Quasi alcun diritto È stata fatta Comunque una pressione Non tanto Sulle parole Dell'imputato Quando appunto Sulla confisca Di Questi soldi Questo diritto Cioè il diritto Appunto Ad avere un avvocato Una supervisione Durante appunto Una perquisizione È importantissima Anche perché Ovviamente Se l'imputato Viene arrestato Perché commette un reato La perquisizione Può essere fatta anche sul posto Perché è pericolosa Ma in quella situazione Dato che non si tratta di armi Ma di effetti personali Innocui Ovviamente Era Buon luogo E legge Dover chiamare Un avvocato E senza questo diritto In effetti Tutte le nostre salvaguardie Rette Da secoli Intorno alla deposizione Sia da parte Di un imputato Che di qualsiasi Del testimone Diventano delle vuote formalità In un procedimento In cui La prova più convincente Possibile Risulta essere quella Della colpevolezza Una confessione E quindi sarebbe già stata ottenuta Prova il piacere Della polizia Senza una supervisione Concludo dicendo Quindi Che Come per le prove Legalmente sequestrate Appunto La vera base Per escludere Il tutto È appunto Che Ciò è avvenuto Mediante Un modo Incostituzionale Ossia Prendere Questa borsa Alla seconda Perquisizione Non dire niente Al mio cliente Controllare i soldi Uscire E arrestarlo E con questo Ho concluso Appellandomi Alla corte suprema Degli Stati Uniti Del caso MEP Contro Aio No Ho concluso Bene Un'accusa Abbiamo dato la stimolina A chiamare l'aula Affermativo L'imputato Vostro onore Scusi Vostro onore Solitamente Quando io richiedo Di far cadere le accuse E il processo Perché La perquisizione Insomma Non era legale È il giudice Che deve decidere Se il processo Può andare avanti O se accoglie La richiesta Dell'avvocato Ma non l'ha richiesto Scusi La richiesta Della causa Della accusa Si richiede alla fine L'ho fatta No Ma in questo caso L'ho fatta all'inizio Perché Vostro onore Se Tutte le prove E lei praticamente Potrà vedere Le fascicoli Le prove Che io non ho Potuto visionare Se Queste prove Vanno a dire Che in effetti È andata così La cosa Cioè Una perquisizione Incostituzionale A quel punto lì Il processo Non può essere fatto Perché è come se fosse Un arresto nullo È come non leggere Miranda Warning E quindi Tutto decade Tutto l'interno processo Non so capire Dove vuole arrivare Perché non Dove ci sono L'illecito Secondo me Come? Dove ci è stato L'illecito Mi scusi L'illecito è quello Che l'ho spiegato Fin dall'inizio Praticamente Se il mio cliente Entra Viene perquisito E non succede niente All'uscita Si fa perquisito Tranquillamente Da qualcuno che dice Ma è stato perquisito Poi il signore Sì E senza spiegargli niente Gli si prende la borsa E si fa un controllo Di questi soldi Appunto Senza alcun diritto Senza avvisarlo Che si stanno contando Questi soldi Senza avvisarlo Che potrebbe avere Quindi un avvocato E senza avvisarlo di niente E poi uscire Ed arrestarlo Questo diventa Anticostituzionale Proprio dalla sentenza Della Supreme Court Nel 1961 Avvocato Il suo imputato Nel momento in cui L'è stata sottratta la borsa Ha detto qualcosa? No Ma che ha detto Che lui ha chiesto Insomma cosa Stessero facendo No Non si preoccupi Attenda E praticamente Si è Diciamo Si è Si è imposto Diciamo Nel non Ha rifiutato Questo Il mio assistito Essendo in buona fede Non ha diritto E non può Neanche Difiutarsi A tutto ciò Ovviamente Dove metterci comunque Scusi Avvocato Il suo assistito Può E come Evitarsi La preposizione Senza un motivo E poi Chiedere l'assistenza Di un avvocato Allora Sicuramente Ma Non è il mio assistito Che deve dirlo La procedura Sarebbe quella Che Il suo assistito Che deve Certo che si Mi scusi Avvocato In quel momento Il pubblico ufficiale Chiede il permesso Di poter Prequisire Il suo assistito E qualora Il suo assistito Accettasse La preposizione Allora La perquisizione Deve non farla Per forza Non si tratta Di perquisizione Se ne assume Quale sia Responsabilità Il suo assistito Si Di conseguenza La preposizione È più che lecita Che poi dopo Divenga sottratta Una borsa Con del denaro Al suo interno E deve essere Il suo assistito A dover Chiedere L'intervento Di un avvocato O doversi opporre Appunto A questa situazione Allora Per chiedere L'assistenza Da parte Di un avvocato Qualora Lui non nega Non si riputasse Non gli chiedesse Un avvocato Non gli chiedesse Un'assistenza Dal momento Diciamo Non gli chiedesse Di essere assistito Da un suo legale In quel momento Lì Lui Concede La sottrazione Della borsa Allora In conseguenza È venire Reputata Lecita Alla situazione Allora Vostro Con tutto Il rispetto Qui non si tratta Della perquisizione O meno Si tratta Di una semplicissima cosa Che quando Viene sottratta La borsa Al mio assistito Non gli viene detta Guarda Qua dobbiamo controllare Questi soldi Perché a me ci risultano Particolari Dobbiamo fare un controllo Questo Non gli è stato detto Dato che Quei soldi Non erano suoi Ma era dell'assoluto Dove lavoravano E erano stati affidati E lui era in buonissima fede Che quei soldi Erano tranquillamente Degli incassi Del locale Che in quel momento Ancora non poteva mettere Fatture Elettroniche Lui giustamente Era tranquillo Quando Era stato uscito Senza spiegare niente Che è pesante Sti processi Scusate se non ho avuto La chat Ma stavo leggendo Le prove La situazione Che non è corretta Durante la perquisizione Non è la perquisizione in sé Ma ciò che Avvocato Se il pubblico ufficiale In quel momento Non ritiene necessario Dover avvisare La persona Perché magari Deve confrontarsi Con un altro suo collega E poi In seguito Ritiene corretto Doverlo dire Appunto Ritiene che sia il momento giusto In cui dirlo Alla persona Da arrestare Ok Si può dire Può tranquillamente farlo Perché in un momento in cui Un pubblico ufficiale Non si sente sicuro Di dover arrestare A un soggetto Perché magari Non è sicuro Che stia commentando Un illecito O meno Ha pieno diritto Di potersi confrontare Si si Ma deve essere avvisato Deve essere avvisato Scusi Se io sto Ho un sospetto assassino Davanti a me E devo Vedere i suoi documenti Mi dico Guardi In un secondo Che mi confronto Con i miei colleghi Perché lei è un sospetto assassino Nostro onore Mi cagli lo riferisco Mi scusi Il pubblico ufficiale Deve comunque fare Le sue indagini In sede privata Con i suoi superiori Di conseguenza È più che lecita Questa sottrazione Del denaro È più che lecita Questo arresto Quindi procediamo No no È lecita sottrazione Ma non è lecito Non fargli chiamare un avvocato Lui deve sapere Prima quello che sta succedendo Per poter chiamare un avvocato Non penso che si sia opposto Questa cosa Non penso abbia richiesto Un avvocato Quando poi gli è stato detto Giustamente Ha richiesto un avvocato In quel momento Il suo assistito Tengo a precisare Un attimo solo Procuratore No procuratore Non ho concesso di parlare Va bene Avvocato Il suo assistito Mi risponda gentilmente Alla domanda Il suo assistito Ha richiesto un avvocato Al momento dell'arresto O al momento In cui Avevuto Avvocato Non mi ha risposto Alla domanda Il suo assistito Perfetto Procediamo Procuratore Avevo testimoni Affermativo Chiamiamolo imputato Al banco Perfetto Ripeta dopo di me Giuro di dire la verità Giuro di dire la verità Tutta la verità Tutta la verità Nient'altro che la verità Nient'altro che la verità Consapevole della mia responsabilità Morale e giuridica Consapevole della mia responsabilità Morale e giuridica E di non nascondere nulla Di quanto la mia conoscenza Assurda E di non nascondere Nulla nella mia conoscenza Cose assurde Guarda La voce è imputata Prego imputando Si identifichi in aula Grazie Sono Tony Sfera Sì grazie al curatore Passi pure Ecco lei Prego iniziamo pure Accusa Un secondo solo Vostra onora Che cazzo sta facendo Sto avvocato Mamma mia Bene Partiamo subito Guarda che roba Ma che è successo Da dove provenivano questi soldi Ha iniziato a appellarsi a regole del cazzo Provenivano da dove lavoravo Dicevano che era illecito Il fatto che Chi le ha acquisito Bene Può spiegare alla Borsa Che cosa ha risposto precisamente Quella sera A questa domanda Lui diceva che secondo lui È illegale Che pubblico Che doveva aspettare La persona è caricata Che gli doveva Che era il direttore E il proprietario E dopo Ma in senso Lui non ha chiesto un avvocato Come si chiamava il direttore Di questa attività Dovevo informarlo Che lo stavano Io l'ho incontrato Una volta Quando gli ho portato Non ricordo esattamente Bene bene Anche perché Poteva chiedere Come un avvocato Quando gli hanno sostratto Come è attuale Che io lavoro Ho un altro lavoro Come meccanico Guardati la mia C'è la telecamera Essendo che il proprietario E il direttore Ci trascorrono Molto tempo Nella sede Con noi È normale Che nasce il rapporto Di amicizia Non li metti Io non li vedo Non subito Il nome del direttore Doveva essere Un Yeah Una cosa del genere Però non ne sono sicuro Non lo poteva Faccio vedere Ok Per quale motivo Il direttore Aveva affidato Tutti quei soldi Perché al momento Non funzionava La fatturazione elettronica Quindi si pagava In modo Tra virgolette Manuale Ed essendo io La persona Un pochino Più grande E quella che Cercava di lavorare Un pochino in più Tenevo Mantenevo No Tenevo Mantenevo Questi soldi Logicamente Anche con la paura Perché comunque Erano Un bel po' Un bel bruzzoletto Non è proprio poco Stiamo parlando di 40-50 mila dollari Al giorno Come le dissi Infatti era Il pagamento Dai 10-13 giorni 15 giorni Ora non ricordo Tanto è vero Che non siamo stati Nemmeno pagati Chi lavorava All'interno Di quel locale Che Quella serata Li dovevo andare A dare A quella persona Che poi Non si è presentata Lei ha mai usato Quei contanti Ma io uso Sempre i contanti No Con quei contanti Che aveva All'interno Dello zaino Riformulo la domanda Perché forse Non era chiara Ha mai comprato Qualcosa Obiezione Vostro onore Quei contanti Già detto Che non erano suoi Si vuole far pressione Per Insomma Fagli dire Che ha usato Dei soldi Che non erano suoi Di più Sua proprietà Obiezione Accolta L'imputato Ha già scritto Che i soldi Non erano sui In quel momento Cosa ha detto? Come sei rispinta Ha detto giusto? Da quanti Dependenti Era composta Questa attività Io mi dormi Ho un lap Ti giuro Perché sono tutti in silenzio Come se aspettassero Che continuasse a rispondere No? Aspetta Cosa ho detto? Cosa ho sbagliato? Noi venivano Sempre al lavoro No Mi hanno messo loro In casino È sicuro Che non erano Una quindicina? Obiezione Vostro onore Ha già risposto Ma in che senso? A cosa è riferita La sua domanda Avvocato? Adesso il procuratore Alla domanda di prima Quanti dipendenti Ha il Burger Shot La riformula? Obiezione Vostro onore Praticamente Ha chiesto Quanti dipendenti ha Lui sa solo Quelli che vedeva Per andare a lavorare Quindi una domanda Scusi se l'ha intorno In anticipo Ma comunque È una domanda A cui può rispondere Anche se marginalmente Può rispondere Semplicemente Anche se Guarda la sua conoscenza Non per forza Quanti Se non è a conoscenza Può tranquillamente dirlo Come risposta Giudice Come ho detto Io ne conoscevo Due o tre Non so se erano Poi dieci Quindici Venti O centri Questo non le posso Confermare Le due persone Che sono venute Con lei In procura O meglio Con cui lei È venuto in procura Erano dei dipendenti Di questo Burger Shot Uno sì Da quanti direttori È composta Questa attività O da quanti direttori E proprietari È la composta Eh a sapersi Io ho consegnato Il curriculum Quando si sono aperte Le frontiere E poco dopo Ci siamo sentiti Per tra virgolette L'assunzione Che a differenza Ecco Del post attuale Dove sono È totalmente Differente Nel senso Che dove sono C'è una gerarchia Lì era un po' Un'incognita Ma io essendo in prova Non è che mi metta a dire A chiedere Quante persone Non si è composta All'assunzione In che contatti è con Il signor Orazio Del vecchio Non che proprietario Dell'attività di rimozione Forzata Presente in questa città Obiezione Vostro onore Rilevante Cosa c'è E si tratta Di dei messaggi Dalla quale Si delinea Un numero di telefono Che chiama più volte Il soggetto Si tratta All'incirca Di una decina Di chiamate Tra chiamate In entrata Tony Sfera Indagina Lo trova All'incirca A metà del foglio Ci sono due foto Dove si evince Un numero di telefono Uguale Che fa più chiamate In entrata E in uscita Al signor Tony Sfera E successivamente Si evincono Dei messaggi Della quale Un secondo Perché ho l'immagine Un po' troppo Piccola In questo momento Sul fascicolo Dice Ciao caro Mi occorre Della merda Eh Non dovevo Hai aperto il link Hai aperto quello Eh Allora ciao Che devo fare A dopo Ciao ciao L'aspettiamo Anche un attimo Il portatore Fornisca il link Del Digitale All'avvocato Nel frattempo Così può vedere Il foglio Reperti Dal Dal digitale Comunque è bellissima Sta cosa Non le fa cagare Bel problema Sì L'abbiamo fatto come prima Facciamolo Postare Sull'applicativo E basta Poste Oh E comunque Cioè Si era appellato A che hanno controllato I soldi A non che glielo hanno trovati Oh ma tu Tu sei giudice No Sei zitto Lui è giudice Hai capito Sei arrivato all'ultimo Lui è il giudice Ciao Ciao Ma io non vedo comunque Cato Indagine in tannisfera Arro Comunque io non la vedo Sta cosa qua Indagine in tannisfera Tu la vedi? Io non ce la faccio io Guardalo Com'è che si chiama Da questo qua No Non c'è vedi Mi scusi Procuratore Ma quant'è questo qua Che numero è di processo Io non trovo Quello che stai dicendo Non trovo Come non lo trova E mi dica dove devo andare È impossibile che non lo trova Che numero di processo è questo? Che numero di processo è questo? Allora Denuncia Denuncia No Non è denuncia burger shot E' l'altro È il foglio drive Sì il link A metà foglio A me mi apre un pdf Non c'è un png Mi apre Che senso Mi apre un png Sì Cioè dove dovrebbe stare Questo link Mi scusi Allora stiamo cercando Glielo sto mandando Glielo sta mandando Eh me l'ha mandato Sì me l'ha mandato Eh Dove sarebbe Quello da mandare A metà foglio C'è i screen del telefono? Sì Siete le chiamate Eh Un secondo Mandalo nella nostra sezione Procuratore Procuratore Mi invito a mantenerla calma Eh per favore Lo sbotto Ve lo devo mandare Nella direzione? Sì Le domande dei Eh Faccio qualcosa Procuratore Grazie Ma eh Mi scusi Io faccio anche troppo Ma questo non c'è Non è nel foglio reperti Sta cosa Non si permette Non c'è nel foglio reperti Sta cosa Non sto insinuando niente Non c'è nel foglio reperti Sta sentendo? Ssh Andato Bravo Ma è un problema Sare l'avvocato Io non so che casino No La prossima volta La facciamo Come prima Basta Rotecazza La merda No Sennò magari Quando sono Invito il link Privatamente All'avvocato Senza No Scusami Facciamo la sezione Prove Sull'applicativo Di impero Già Ma non lo mandano Lì No Perché Aspetta No Deve essere pubblico Deve essere solo L'avvocato Solo No Non devono essere in anticipo Messi in anticipo Io voglio che loro portino un documento Tac Ti passano un documento Mi dà fastidio Quando non mi faccio Io voglio che portino un documento Punto Poi passano il link Lo portano Ma lo passano nella sezione Reperti link Al momento Sì Ho capito E appunto Sì Sì E quella sezione La faccio visibile A giù Il procuratore E avvocato Ma non in privato Ok ma non in privato Perché Scusami Che ti cambia te Che ti cambia Perché c'è una cosa tracciabile Il privato fa schifo È brutto mandare cose in privato In realtà No Perché lì Poi lo vedono tutti gli avvocati E non voglio Ma mandato in privato No Sì E non merda in privato Ma mandato in privato Invece No Sì Perché sono cose riservate Sì Sono cose riservate Queste Oh sì E non possono vederlo Scriviamo processo Cazzi No Magari in privato Si manda la punta No Fa cagare Eh vai Fa lo stesso No Allora Allora facciamo Una sezione Per ogni avvocato Sì certo Non te le faranno mai Le faranno Sì Sicuro Allora appena farle E poi dopo le faremo così Allora Dopo Dopo Ne parliamo Perfetto Non ne parlo Io ho fatto Le fare tu Poi dopo No Io faccio fare la sezione Che ho detto prima E che così Voglio che sia Ok signori Ci siamo Sì sì ci siamo Ci siamo Procediamo L'avvocato Abbiettato Io sto aspettando Una risposta Per signora domanda Qual era la domanda Qual era l'obiezione La domanda era semplice In che rapporti era Col signor Orazio Del vecchio Vabbè non ho detto più Non avevo visto questa cosa Mi scusi Non avevo modo di vederla Tra l'altro era diverso Anche quello che c'era Sul foglio Posso rispondere Prego Risponda L'avvocato Non ha Ok Con il signor Orazio Che non so come faccia Di cognome Ma solo di nome Non è che vado in giro A chiedere i cognomi Delle persone Praticamente C'era un gruppo Di ragazzi Che frequentava Il parchetto Quello Di fianco al Bulbershot E venivano Ad acquistare I nostri prodotti Diciamo all'epoca E In questo modo qua Lo conosco Che noi Quando ci chiamava Noi andavamo lì A portargli la roba Per non farli venire Tutti Nell'ovale Nel più Nel più Nel più Bene Come si evince Dal fascicolo Che è stato portato Che poi fondamentalmente È semplicemente Un trascritto Di quello che è L'interrogatorio Che era stato fatto Durante il controllo Sim Si evince Un messaggio Che lei Invia A Signor Orazio Con scritto Ciao caro Mi occorre Della merce È possibile Sono l'amico DJ Di che merce Si tratta? Di Y Y Pardon Sono Di portare Dei clienti Perché Se noi non fatturiamo Non Non veniamo retribuiti Queste Quindi lei Paragona Delle persone Della merce? In modo scherzoso Sì Non credo Che Come dire Quando si entra Un po' In confidenza Si fa una battuta Deve essere tutto prese Per Per le mollette O per i capelli Chi è Il signor J Y Y Vabbè Non ce lo posso fare È un amico Come si chiama? È un amico in comune Che si chiama Se è sempre definito Y È un amico in comune? Penso che lo conoscevano lui Non lo so Che qualche volta Che ci siamo Quando ci siamo fermati A chiacchierare Che portavo I prodotti A loro Chiacchierando Sentivo nominare Y M Poi ognuno ha il suo Da tre anni Sta perfetto Non mi cambia niente Come Penso anche come Marshall O come la polizia Hanno le matricole Ognuno si dà un soprannome Che vuole Ogni si dà Ho finito con le mie domande Vostro onore Mi prego di pesa Va bene Pensando per Il presupposto Che Praticamente per me Quella perquisizione Ha un vizio di forma Procedo comunque a fare domande Al test Vorrei sapere Hai giudicento A te Sì Scusi Hai sentito Lui c'è il vizio di forma All'arresto Sbagliato Più o meno Questi soldi Che erano quelli Che ha guadagnato Il negozio Il burger Dove erano Messi solitamente Insomma Dove stavano posizionati Durante la giornata Lasciavamo In una cassa In uno zaino Una cassaforte Insomma Sì esatto Al momento sì E chi aveva accesso A questa cassa Il direttore Direttore O chi Diciamo alto in grado Passava per Mettere le mani dentro Ok Quindi praticamente Questi soldi A fine serata Li prendeva da voi Che li avete fatto I contanti Giustamente L'ultimo che rimaneva Sì praticamente Passava Sì si pigliava Questo zaino Questa cosa Per Ok Lei quindi non poteva accedere A questa cassaforte No Ok E ogni quanto Ci accedeva Quindi il direttore O comunque Chi per esso Poiché Per problemi fuori Facevo a settimane alterne Quindi mi è capitato Una settimana Che Solo di Di mattina C'ero io Mattina Massimo Metà pomeriggio Quindi non solo La sera Se andavano tutte le sere Una sera sì Una sera no Io questo Non glielo so dire Ok E lei ha mai visto Quindi persone Che aprivano Questo zaino Questa cassaforte Insomma Chiamarla Ma noi dipendenti No Quindi chi è che Insomma Solo il direttore Insomma Sì l'ultimo che Tra virgolette Rimaneva Li depositava Li dava Alla persona Che doveva venire E lei ha mai visto Con i suoi occhi Il direttore Comunque mettere le mani lì Io l'ho visto Un paio di volte Non di più Diciamo non so Se fosse il direttore O il proprietario Chi Chiesto sia Era colui Il cui aveva dato Il curriculum Sì Ok Non so Ha avuto modo Di vedere Cosa facesse In questa cassa No Perché non sono Cose mie Voglio dire Ok Comunque aveva accesso Lui aveva accesso Sì io Lui sì certo E lei ha mai avuto Il pensiero Che quei soldi Potessero essere Non so Come le ha definiti Il produttore Non tracciabili Farsi come Avvocato Io Le dico Come Dissi Ai signori Che Mi arrestarono Durante l'interrogatorio Io purtroppo Non so la differenza Tra il vero O il falso Come dissi ad un agente Se Uno di loro Fosse venuto Al locale Mi paga E io gli dovrei dare Il resto Loro si sapevano Riconoscere La moneta falsa Come mi stanno dicendo Anche loro Mi risposero Di no Perché non è Che mi porto Una macchinetta Appresso O mi devo comprare Una macchinetta Quando poi il locale Non è mio Io dovrei essere Tra l'altro Non ho ancora capito Se sono soldi falsi E quindi una macchinetta Di colleggere O sono soldi non tracciati Da cui bisogna vedere il codice Da filgrano Qualcuno Quanto altro Questo non ho ancora capito Comunque Comunque Detto ciò Quindi E su questo Abbiamo risposto Vorrei sapere invece La sua versione Dei fatti Di quella serie In procura Com'è andata Per la situazione Della Perquisizione Di tutto Ciò che è accaduto Allora Io andai In procura Per questi Due amici Per questa coppia Che poi Lei è anche Incinta E che avevano Questa caviera Dovevano andare Ad una festa In maschera Questa festa In maschera Praticamente Si sono trovati Al posto Sbagliato Al momento Sbagliato Sono stati trattenuti Non lo so Due tre ore In quel posto E dopo Tre settimane Non si sapeva Nulla Di Di loro Di questa cavigliera Se si poteva togliere Se no E gli dissi Ragazzi Non vi preoccupate Andiamo io Che sono Tra virgolette Libero Passiamo un attimino In procura E vediamo Un po' La situazione Qual è Libero intende Che ha finito di lavorare Insomma Sì 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 Avevo finito Andai in procura Dove Mi perquisì La Dissero che era La figlia del Procuratore Vice procuratore Adesso non so E Al momento Fu tutto a posto Nell'aspettare i ragazzi Io usci Ed rientrai Di nuovo Perché non trovavano La procura Quando arrivarono Ci accomodavano Prima di accomodarci All'interno Ci fecero Una nuova perquisizione Io lo dissi Che ero stato Già controllato Però Nel modo Nella forma più buona Aria Mi rifeci Controllare Un agente Si prese lo zaino E se lo portò All'interno Di una stanza Io ho chiesto Più volte Spiegazioni A riguardo Di quello zaino Anche perché Erano Passate Un'e mezza Un'e mezza E niente Non mi dissero Nulla La gente Quindi non era Il procuratore Che prese lo zaino In quel momento Era un marshal Chi prese lo zaino Però Comunque Essendo che non so Se sono Non so come definirli Diciamo Soldi diversi Diciamo così Perché non so La specifica Quale dovrebbe essere E se andava Tra virgolette Male Il proprietario Il titolare Mi poteva Cercare a me La somma E diciamo Quando tu hai chiesto Il perché Si mette solo Questo tempo A controllare Questo tuo zaino Ti hanno dato Una risposta Mi dissero Semplicemente Non ti preoccupare Non è niente Non ti preoccupare Non è niente Dopodiché Ci invitarono Ad accomodarci Nella sala Del Credo Che fosse Quella del Procuratore Dove c'era Il procuratore E la vice Se non era Era una donna Una signora E iniziarono A far spiegare I ragazzi Tutta la questione E stesso La vice procuratrice Sempre se non Mi voglio sbagliare Comunque la La signora Diciamo così E la vice procuratrice Che è stata presente Fino a poco fa Qui Credo Credo Ora onestamente Non mi lo so Passate tre settimane E disse Che il fascicolo Di quei ragazzi Non si trovava più Che questi soldi Questi soldi Di queste cose Che avevano fatto E questi ragazzi Non si trovava Non si sapeva più E stava raccontando In pratica Tutta la storia A lei Stava raccontando Sì stava raccontando A me Con questi due ragazzi Con questa coppia Che era presente Quindi violando La privacy Di questi due ragazzi Stava dicendo Che praticamente Questi soldi Potevano essere loro Praticamente Che avevano loro E che non si trovano più Questo mi sta dicendo No 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 Non ho capito A questo sto No 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 Scusate Obiezione Vostra onora Sto cercando di capire Vostra onora Cioè Obiezione Va di cosa Non è stata Non è stata bypassata Nessuna privacy In quanto il soggetto È entrato in procura Assieme ai due ragazzi Quindi come gruppo Quindi non vedo Dove scatti Eh perché Quando pure si entra In gruppo Anche dal dottore Se magari c'è qualcosa Delicato Il dottore è tenuto A dire come Anche in procura Dobbiamo parlare Di cose personali Voi siete d'accordo Che lui assista Dato che è un esterno Un terzo Quindi non mi pare Di aver fatto Una domanda legittima Scusi Evocato Chi erano gli esterni No Lui dico Era un Cioè Se io e lei Andiamo in procura O andiamo dal dottore Eppure se siamo amici E poi però il dottore Ha da dire una cosa privata a lei O comunque un procuratore Una cosa a lei Il procuratore dovrebbe dire Senta Sir Foster Qui c'è Una persona Va bene Se parlo davanti a lui Si fa anche con i familiari È questa cosa qui Guardi Io adesso non vorrei dire Però Il procuratore Non deve pensare Ai fatti Della sua assistita Sono le basi Della norme Della privacy Sì ma Se il suo assistito Non dimostra Nessun volere Nessun volere Di allontanare Una persona Da Una stazione privata Non penso Ci sia bisogno Che il procuratore Deba andare a chiedere Il procuratore Pensa che Avendossero portato Dietro con sé Magari possa Parlar È alla base Della legge Sulla privacy Però Non fa niente Va bene Il suo assistito Non penso Si sia rifiutato Di far ascoltare Ma era giusto De sottolineare Comunque Volevo capire Quindi Non ho capito Quindi loro Cosa dicevano Che soldi No Spiegavano Si spiegavano La versione loro Del perché Sono stati Tra virgolette Arrestati Del perché Sono stati Processati No Sono arrestati Ma non so Tutta la vicenda Bene 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 Come è stata E E niente In Meno di 20 minuti Che eravamo Lì Arrivano La polizia Di New York E mi fa E mi arrestano Per il possesso Dei soldi Come hanno detto E quant'altro Poi fui Accompagnato Nella sala Interrogatori Dove ci fu Un lungo Interrogatorio E gli hanno chiesto Gli hanno letti Diritti se voleva Un avvocato Quando sono arrestato Al momento Al momento Della cosa E Mi faccio capire Una cosa Ne ha provato a contattare Un avvocato In quel frangente No Come mai Anche perché Erano passate Le tre e mezza Di notte Voglio dire Ah ok Quindi noi parliamo Che è passato Un'ora e mezza Insomma dall'inizio Fino alla fine Dell'arrivo Della polizia Di New York Giusto? Più o meno No quando è finito Era verso le tre e mezza Quando è finito Quando sono entrati In procura Erano L'uno e mezza Due Più o meno Ok quindi è passato Un'ora e mezza Due Tra una cosa E un'altra E lei non ha saputo Insomma Della situazione Di quei soldi Finché non eravamo Da polizia di New York Sì 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 Esatto Ho capito Io sono rimasto All'oscuro Fino al momento Dell'arresto Ecco Insomma Cosa ha pensato Appena la polizia Di New York Ha messo le manette Mi sono messo a ridere Onestamente Perché Obiezione Vostro onore Contegno polemico Non vedo cosa C'entri col caso No volevo capire Il suo stato Il suo stato Psico Volevo capire Psicologicamente Cosa ha pensato Svento Con le risposte Sì sì Siamo provando Troppo Per cose Che abbiamo Già ascoltato Ero Confuso Dalla situazione Perché Gli ho spiegato Che quei soldi Erano Del locale Che non erano miei Loro hanno detto Che erano soldi falsi Io non Non li so riconoscere Non so se sono falsi Se sono contraffatti Se sono qualche so Perché Per me sono Tra rigolette Tutti uguali Perfetto E insomma Una volta che ha avuto Quindi per essere le manette Quindi lei ci ha creduto Pensava che era uno scherzo Cosa ha pensato Nella sua testa No ma io all'inizio Sì Ok avvocato Possiamo procedere Possiamo andare avanti In quanto ho concesso Di rispondere Diciamo in fretta E quasi Lei sta diponendo La stessa domanda Di nuovo Sembra che mi sta Prendendo un giro Avvocato Quindi procediamo Con un'altra domanda Ok Dopodiché Quindi è stato portato A New York Insomma Nella centrale di New York Sì esatto Obiezione Ha già risposto Che è stato portato In sala interrogatori Non era specificato Che era stato portato In sala interrogatori Non ho sentito io Allora E in quella fase Quindi Gli hanno chiesto Le stesse cose Abbiamo un rapporto Che se legge Sulle prove Si chiama interrogatorio Quindi Sì Gli hanno chiesto Poi le stesse cose Quindi giustamente A New York Sì In pratica Sì Ok Dopodiché Nella stessa serata Hai messo la cavigliere E fatta la cauzione E rimandata al processo Non c'era nessuno Sono rimasto in cella Fino Quando Mi disse qualcuno Per farmi La fattura Pagata 60.000 dollari E Prontalmente Tutti i giorni Ho firmato La Presenza di firma In caserma Mai preso un verbale Mai preso un accesso Di velocità Nulla di molla È stato un errore Cioè È stato un errore Perché è stato fatto In buona fede Anche perché Come la signorina Mi ha perquisito La prima volta E mi ha fatto andare E poi effettivamente Ok Va bene Ma io non ho altre domande Bene Prego Un puntato Potono al suo posto Grazie Accusa Abbiamo altri testimoni Da chiamare in aula Affermativo Il sergente Tony Barone Per una sola domanda Bene Pericolo Non prolunghiamoci troppo Su cosa che abbiamo ascoltato Per favore Procuratore Mettere la mano Sulla Bibbia Ripeta dopo di me Giuro di dire la verità Giuro di dire la verità Tutta la verità Tutta la verità Nient'altro che la verità Nient'altro che la verità Consapevole della mia responsabilità Morale e giuridica Consapevole della mia responsabilità Morale e giuridica E di non nascondere nulla Di quanta mia conoscenza E di non nascondere nulla Di quanta di mia conoscenza Ottimo Prego Imputato Si identifichi in aula Grazie Adesso imputato Testimone Servone Sergente Barone Macriolo 048 Del dipartimento di New York Cerca di fare più veloce Buonasera Sergente Le farò una semplice domanda Dal giorno Dell'arresto E del rinvio A giudizio Del signor Tony Sfera Il dipartimento Di New York Ha effettuato Dei pattugliamenti Intorno a questo locale Chiamato Burger Shot Affermativo Ci sono stati Molti controlli Ma non risulta Non risulta operativo Questo Burger Shot Dal giorno Perfetto Finito con le mie domande Vostra onora Peico Difesa Procediamo con la parte Delle sue domande Si Allora Io quindi Volevo sapere una cosa Perché questa è una cosa Che mi prima vuole sapere Ma quindi Questo Burger Shot Era un'attività Registrata Che test A New York C'era Tutti permesso Che non è registrata Quando hai detto Scusa Cioè Potevano prendere le panini E star lì Ti ha detto Che non è Attiva Il problema Che in questa Questo Burger Shot Non abbiamo provato Mai nessuno Ma questo Non è l'arresto Del signore L'Isfera Esatto Ok Quindi dopo Prima avevate fatto Dei controlli Prima dell'arresto Di Sfera Negativo Ok E che ne risulta Questo Burger Shot In cui vendevano panini Perché in effetti C'era gente Che ci lavorava E tutto E c'erano queste Entrate e uscite Di persone Questo locale Era registrato In procura Di nuovo Il Burger Shot Che era a New York È un locale Registrato Come può essere Che ne so Il Vanilla Il Belle Cose Cioè Qualsiasi locale Della vita Quindi Questo locale Esisteva In realtà Cioè Era scritto Si percibile Che è un locale Esistente Funzionante Vostro onore Tengo a fare una precisazione Che forse l'avvocato Non sa Anche se non è una vera Propria obiezione Ovvero che Gli agenti di polizia Non si occupano Dei controlli Dei locali Infatti Il sergente stesso Non può sapere In questo momento Se l'attività È registrata o meno In quanto sono i Marshall Che si occupano Di suddetti giri E di suddetti controlli Perfetto Rispondo io Per il sergente Se vuole L'attività Non era assolutamente Registrata Né tantomeno È mai stata registrata All'interno della procura E all'interno Di questa città A me questo Mi bisogna sapere Quindi giustamente Ci troviamo di fronte A un'attività Che è fantasma Che però funzionava Però nessuno È andato lì A vedere Perché funzionasse Senza avere un Insomma Un contratto Cioè senza avere Un permesso Questo lo sapete Perfetto Ho risposto Alla mia domanda Serenamente La ringrazio Sergente Tutto l'altro Quindi ha interrogato Poi lei Sfera Giusto? Affirmativo Perfetto Va bene Non voglio far perdere Oltre ore il tempo Tanto penso Che è stato detto Confermerebbe Il sergente Che tutto ciò Che ha detto prima È quello che ha detto Per Sfera Anche nel processo Nell'interrogazione Dove mi scusi Va bene La ringrazio Grazie Prego Può tornare a posto Testimone Non ho capito Prego Procediamo con le ringhe finali Accusa Se non abbiamo altri testimoni Negativo Non abbiamo altri testimoni Non ha presentato La nostra richiesta Di conseguenza Procediamo con le ringhe finali Ottimo Per quanto riguarda Il signor Tonisfera Oltre al reato Di cui è accusato Ovvero il possesso Di denaro Non tracciabile Tengo ad aggiungere Particolarmente Un altro reato Ovvero quello Di falsa testimonianza Perché Come si evince Dalle risposte date Dal soggetto Durante l'interrogatorio Qui in tribunale Dalle risposte date In procura In procura In centrale Di polizia In New York Ci sono numerose discordanze La quale parte Dal nome del direttore Che il direttore All'inizio di tutto Ovvero All'interrogatorio In centrale È stato detto Che si chiamava Pasquale Quindi un nome Principalmente italiano Mentre qui in aula È stato detto Un altro nome Ma non era assolutamente Un nome italiano Adesso il nome Con certezza Non me lo ricordo Ma la certezza Che non si trattava Di un nome italiano Successivamente a questo Il soggetto Ha dichiarato Che le fatture Non venivano emanate Appunto E ricevevano pagamenti In contanti E qui mi attacco Al fatto che l'attività Non fosse in regola Quindi è normale Che riceveva pagamenti In contanti E non tramite fatture Come tutti gli altri locali In quanto ne erano Sprovvisti Oltre a questo Tengo a precisare Che il soggetto In interrogatorio Ha detto Che sia lui Che gli altri due ragazzi Presenti con lui In procura Erano presenti E lavoravano Al Burger Shot Mentre in quest'aula Di tribunale Ha detto Che uno Solo dei due Lavorava Presso il Burger Shot Successivamente Ha detto Che Jay Era un amico in comune Suo E di del vecchio Y Pardon Mentre In interrogatorio In centrale New York Il soggetto Ha detto Che il signor Y Era il suo Migliore amico Della quale Non si ricordava Non si ricordava il nome E' creato Di falsa testimonianza Procederemo Con la vostra linea finale Sì Allora guardi Dato che È detto che Poi deve Sfigliare alla fine Se Vuole appoggiare Insomma La sentenza Della US Supreme Court Del 61 Con perquisizioni Violando la Costituzione Federale O comunque Inammissibili Io Mi rimetto ancora A Questa sentenza Del 61 Da cui poi Sono venute fuori Tutte le leggi Negli Stati Uniti Sulla perquisizione E Quando comunque Avviene Una perquisizione E quando Soltutto Vengono presi Degli effetti Personali Per un controllo Ovviamente Deve essere Avvisato La persona Che gli vengono sottratte Queste cose Del motivo Perché Lei mi dice questo Perché data anche Che l'Aureo Tarda L'Aureo Tardo Eccetera Era tutto nel diritto Del mio assistito Poter Comunque chiamare Un avvocato prima Anticiparsi Visto i tempi E chiedere un consiglio Anche su come comportarsi In quella situazione lì Perché giustamente Quando viene fatta Una perquisizione C'è comunque bisogno Anche di un controllo Appunto Giuridico Da questo punto di vista Di difesa Ed sono passate due ore Quindi Tranquillamente Gli si poteva dire Ciò che stava accadendo Anche perché Il soggetto non era pericoloso Non era armato Non poteva scarpare Dato che già Era In procura Siamo tutti i documenti E quant'altro Quindi di base Io mi appello A questa cosa qui Che equivale A una non lettura Ad esempio Di Miranda Warning Sugli effetti Giuridici Che ha Poi se vuole Quando abbiamo tempo Le posso anche raccontare Il caso Map E tutto ciò Che era successo Nel 61 Da cui poi è derivato Tutto questo fatto In ogni caso Qualora Inspiegabilmente Non volesse Far valere Questa Sentenza Del 61 Io le dico Che ovviamente Il signor Sfera Era in un locale Che a quanto pare Non era legale Perché non era Non aveva i permessi E tuttavia Le persone ci andavano A quanto pare Ci andavano Davvero quello che mi ha detto Mi ha assistito Non so Se mi ha mentito Ambasciatore non portapene Che anche i Marshall Andavano Lì a comprare I panini E quant'altro Come anche tutti i cittadini Tutti vedevano Che lì andavano Le persone a comprare Ma Ovviamente Nessuno Si è mai preso la briga Di controllare Se effettivamente Avessero un permesso Anzi Pur sapendo Che non avessero un permesso Nessuno ha fatto nulla E sono andati a fare dei controlli Solo dopo L'arresto Del mio assistito Oltretutto Loro prendevano questi soldi E li davano Comunque Al direttore Che ancora non ho capito Come si chiama O quant'altro Che aveva l'accesso A questa cassaforte Questa borsa Con l'occhetto Quello che sia E che comunque Questa persona Che tra l'altro Nel momento Non si riesce a trovare Perché ovviamente Non si sa chi sia Nemmeno Ovviamente Perché non era registrato Aveva accesso quotidianamente A questi soldi Poteva prelevarli Prenderli Cambiarli Insomma Nessuno poteva sapere Niente Quindi mi ha assistito Pur volendo E' stato Preso in giro E' stato assunto Da un'azienda Che tra l'altro Non aveva anche i permessi Non ha avuto Uno stipendio Quindi qui praticamente È l'unico Veramente Che ci ha rimesso E' stato il mio assistito Che ha lavorato Per quasi due settimane Non ha avuto lo stipendio E si è trovato anche In questa situazione Perché ha cercato Di fare il suo lavoro E di guadagnarsi Il pane onestamente Dato che Non è mai stato arrestato Alla fedina penale pulita Quindi onestamente Tutto ciò che viene richiesto Dalla procura Mi sembra veramente eccessiva Il massimo Potrebbe essere Un favoreggiamento Ma senza neanche Esserne consapevole Un favoreggiamento passivo Di tutto ciò Che è accaduto E con questo Quindi io chiedo Una riduzione sostanziale Della pena E il decadimento Appunto Di queste Di queste accuse Infamanti E infanganti Con questo ho concluso Mi ritiro Per la libera Mamma mia Ma Eh Che se sei proprio Preparata scritta Se stava leggendo Eh Sei proprio divertita Preparata Che cos'è Che mi stavi dicendo Che t'ho stoppato Perché non sentivo Un pifero Cos'è che ha detto Posca riguardo La falsa stimolianza Perché Sostanzialmente Ha detto Falsa stimolianza Per il semplice motivo Eh Per i soldi Mi sembra Comunque In generale Tipo non l'hai ascoltato Tu Sì Ma capisci Che sono tipo Mezzanotte e mezza Vabbè Non sono stato Di tutto So benissimo Soltanto Che L'avvocato Si vuole affigliare Che Marshall Gli hanno fatto La perquisizione E che Gli abbiano Cercato di intracciare I soldi Cosa non vera Perché Basta vedere Basta chiedere E per di più Se aveva sto dubbio Da benissimo Chiedere Bodycam Visto che siamo Anche come la polizia Tenuti a fornirle Quindi se lui Non si è svegliato Per chiedere Delle prove Si attaccasse Per le prove Che sono state Fornite alla procura Cioè Per me Non cadono Poi il giudice Lei E sta tutta Sta storia Del Di un vecchio processo Io vorrei capire Falsi testimonianze Quali sono state La sua falsa La sua falsa Testimonianza Eh Che cazzo Aspetta Chiamo Sacchi Dammi un secondo Ah Questa qui No No Tu Non hai ascoltato Sì Ho ascoltato Ma Spiegami Non si è neanche capita Da Sacchi La falsa Testimonianza Cioè Non Non è stato chiaro Su cosa Falsi testimonianzato Cioè Capisci Anche a me Non si è capita Una minchia Cioè In occhi viola Fatelo un attimo Rivedere Sto ad andare anche A rivedere io Ma Dei bloccati Sto ad andare anche A rivedere io 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 Mi sa comunque che c'è un altro imputato, vado un attimo a chiedere. Ecco, che cosa è che è falsa disperanza? Grazie. 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 Mi sentite voi altri, vero? I più forti resisteranno. Sì, la sentiamo. Siamo resistiti. I più forti resistono sempre, però l'Avvocato non ha resistito. Ok, siamo rimasti... Venga un attimo. Io non ho capito le false testimonianze quali sono. Eh? Non ho capito quali sono le false testimonianze. Allora, quelle che ti ho mandato, ok? Che ti ho scritto, sono... La foto che ti ho mandato dal nome Tarocco del direttore all'accusa che volevo aggiungere, perché poi non ho aggiunto di associazione del delinquere, ok? Tutte quelle sono tutte false testimonianze, perché se tu confrontavi... Cosa ha detto qua? Cosa ha detto qua? E' che io sul Mac le sono scritte abbreviate, non è che mi le scrivo complete. Il trucatore ha detto che entrambe i ragazzi comunque era venuto in pocura lavoravano... E qui cosa ha detto? No, no. Lui ha detto che qui ne lavorava uno solo. Ha detto il nome del direttore che era un nome palesemente estero. Quando di là ha detto che si chiamava Salvatore. C'è un'altra. C'è un'altra. Poi aspetta. Poi Ferdinand ha detto. Poi Ferdinand ha detto. Mentre invece si chiama con un nome italiano. Poi in interrogatorio... Scusa, Jay di là dice che è un suo migliore... Vabbè, dice che è un suo migliore amico. Mentre di qua invece ha detto che era un amico in comune di lui e di Del Vecchio. Ok, a posto, a posto e basta. Aspetta, aspetta, aspetta. Una cosa molto grave, una cosa molto grave. Al minuto 17.50 nella registrazione dice che i soldi erano in cassa. Quindi se lui dice che i soldi erano in cassa vuol dire che ha l'accesso alla cassa. Mentre qua dichiara, e l'ha dichiarato più volte, che solamente i direttori hanno accesso alle casse. C'è anche questo. Buono, buono. È un sacco di cose. Sfio. Sfio. Nonoe. Tuonerà la nostra avancegliera. Ok, eccoli. Vai, annuncia pure Aspetta che prendo foglio Ancora mi ricordo la memoria, figurati Signore e signori tutti in piedi in aula Presiede l'onorevole Clark Foster Bene Spero che ho parlato, vi grazie Scelta molto Un po' complicata La corte quindi Giunge alla conclusione che Il signor Tony Sfera È colpevole per i reati Di possesso di denaro non tracciabile Appunto in quanto come specificato Inizio processo Tutto ciò che è stato fatto durante Tutta la fase di arresto Il signor Sfera è lecita In quanto comunque il signor Sfera Non si è mai opposto a nessuna preposizione Non si è mai opposto a nessuna sottrazione Di beni personali Durante un controllo delle forze dell'utile E non ha mai chiesto un'assistenza Della parte dell'avvocato Per questo Con condanno Una sanzione pecuniaria Pari a 150.000 dollari E la penitentiva pari a 10 anni Con questo è tutto L'udienza è sciolta A titolo informativo Signor Parico venga qui Per fare la multa La volta a confrontarsi Con l'avvocato Prima di essere portato Il tribù in carcere Sì Posso dire una cosa Ma giusto per curiosità Ma si rende conto di Che oggi Quello che avete fatto In generale Nel senso che 150.000 dollari Con i lavori che ci sono oggi Entro a pagare una settimana Giusto? Altrimenti la doppia E uno come deve fare? Deve marciare in galera? Perché l'economia non va Ma questo è con me Perché Diciamo forse Tra quello che ho sentito Tra i reati di oggi E quello un pochino Più esagerato Forse anche se io Sono inconsapevole Perché poteva capitare Anche a lei Di avere qualche dollaro Contraffatto Quel che sia in tasca E la signorina di prima 80.000 dollari Io penso che siamo Veramente nel libero simile In queste situazioni È più illegale Avere 600.000 dollari Non tracciabili Che Ma io non lo so Che denunciare Un poliziotto Di una cosa falsa No vabbè Ma io dico Io non lo so Io ho sempre detto Io non so La distinzione Se io adesso Le passo Ho capito Però Lei mi sa dire Lei deve dimostrare Ciò che ha detto Se lei non ha prove Ok Perfetto Non vengono dimostrate Prove che lei Ha Non volutamente Preso Questi soldi Perché la signorina Che mi ha controllato La prima volta Perché la prima volta Che mi hanno controllato Non ha fatto passare La figlia Del vice Del procuratore Ma perché E l'altro Si è consultata Con il suo collega Ma oggi ha risposto A questa domanda Del suo avvocato Signore Quindi potrà confrontarsi Con lui Sì sì No poi ci confrontiamo Perché poi Voglio fare un paio di spiegazioni Generali A parte di questa cosa qua Perché Perché credo Che si faccia Confusione Con il sistema americano Il sistema italiano Ma qui mi baso Solo sul codice penale Le regole che non esistono Le regole che non esistono No Dico il genere No 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 Dico però il generale L'accusatore Perché comunque Anche qui siamo Sull'accusatorio Cioè che Che è l'accusa Che deve portare Le prove Di colpevolezza Questo è il sistema Giudizio americano Penso che questo Sia per una base Anche qui in città 600.000 dollari Non tracciabili C'erano Avvocato Se lui non dimostra Signori possiamo andare avanti Visto che non abbiamo Tutta la notte Abbiamo Abbiamo Passato Comperete la donna Potete ricevere risposte Maggiori in procura No no Sì quindi da parte mia È inutile che io studi le cose Perché tanto Non vale nulla Abbiamo vinto già Non fa niente Non c'è problema Non studio più Mi attengo Al compilino della città Non fa niente Ah già discusso con l'avvocato? L'avvocato C'è un altro processi Vi fa Ah Ci sono altri processi? Credo di no Perché ho ricevuto L'utile di riaccompagnare Sì No no Eh sì Uno sicuro C'è un altro processo No è perché Io chiesi pure agli agenti Se sapevano la differenza Che sia di Marshall Trasportato in carcere E' un'avvocato L'avvocato potrà seguire Il suo sito in volante Sì 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 Se vuole Marshall trasportate con voi L'avvocato Prego prego Ok Non mi scusi Marshall Faccio piano Sì Ok Trasporti pure anche l'avvocato In macchina Se vuole parlare con il suo sito Ma non ti ho aumentato la seconda 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 Ah sì Vabbè se il sistema è questo qua Non penso perché Sì procederemo di un sistema Sì sì Trasportate pure l'avvocato assieme Se vuole parlare con il suo sito E riempiamo dentro Certo No io non lo faccio un altro Sia chiaro eh Non ne posso fare un altro Annuncia il prossimo processo Su Aspetta che non mi ricordo Manco più no Ne si è chiuso tutto Che qui Aspettami eh C'è un altro Ciao Kakashi Iosef CXC Grazie per il follo Benvenuto Ah Perchè 015 Marchioid Prego prego Vada vada Ciao Mike Buonasera Buonasera Signori e signori Tutti in tv in aula Processo numero 015 Lo Stato contro Marchioid Richiede l'onore Quello trasportare Dio benedice Che mi chiamete Che sia rispettabile forte Buonasera a tutti Prego Comandati Buonasera Grazie Prego Iniziamo Vostro onore Prima di iniziare Con la ring La ring Iniziale Vorrei conferire Nel suo ufficio Con lei Insieme all'avvocato Dell'imputato So che siamo tutti Un po' stanchi Ma c'è una motivazione Vabbè ma In senso Il processo è lungo? Eh Dipende ovviamente Anche dalla difesa La difesa vuole prolungare La questione? No Più che altro Perché verranno poi fatte Delle domande All'imputato Non devi evitare Diverse obiezioni Procediamo Basta che andiamo Per la stanza Vabbè Venga venga Avvocato Andiamo in ufficio Vediamo un attimo Allora La faccia breve Mi è stato affidato Stamattina Questo caso Solamente ho riscontrato Una cosa Io diverso tempo fa Avevo raccolto Una denuncia Di un soggetto L'imputato Ad essere accusato Di documenti falsi In particolare Una licenza falsa Di vendita ambulante La stessa licenza Io avevo ricevuto Tempo fa Una denuncia Con un documento Fatto nella stessa maniera Falsificato Nella stessa maniera Di questo documento falso Quindi il sospetto Della procura È che ci sia Un fabbricante Di questi documenti In quanto il timbro È esattamente identico Si capisce che è falso Perché non c'è La firma del procuratore Ma sono tutti e due identici Quindi Secondo noi L'ha fatti Lo stesso soggetto Quindi vorrei fare Poi delle domande Al soggetto Riguardo A quell'altra A quell'altra denuncia E adesso vi mostro Il documento Ce l'ho uno solo Quindi lo mostro prima Si 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 No non c'è problema Allora Vi mostro Signor giudice Le mostro Prima La cosa Il documento falso Di cui è accusato L'imputato Che è questo qua La licenza falsa Che è stata trovata Addosso Dalle agenti di polizia Ok Vedi com'è fatta Sfera Via Ok Lascia Ok Ok Adesso le passo La raccolta Della denuncia Il livello di stress In gioco Direttamente Guarda Quelli Dirle Si Veramente Guarda Il livello di stress Che ho fatto Le sping Ok Ok uguale identica capito quindi vorrei fare delle domande a poste come il nome e il cognome ah no ma perché 160 è sempre il civico c'è il 160 mi scusa questo non l'avevo notato civico è uguale identico a 160 sempre per entrambi se guarda 160 non c'è niente Mike Wetter e poi se guarda di là c'è scritto Anthony Spring e lo Santos 160 perché è copiato e incollato sicuro molto furbo poi il fabbricatore devo dire comunque arriva a punto le 1 aveva 10 eh no io l'ho detto perché poi ovviamente se io facessi delle domande specifiche sull'argomento l'avvocato obietterebbe giustamente perché non è a conoscenza però essendo che è una cosa un po' delicata e porterebbe a delle indagini non la voglio divulgare cioè voglio conferire con l'imputato facendo delle domande ma in un certo modo quello che posso dirvi io è che ehm io sono stato diciamo assunto dal signor ehm Lloyd ieri sera quindi non ho avuto alcun modo di poter presentare profi e testimoni o qualsiasi altra cosa a sostegno della della sua causa in accordo diciamo in preaccordo col signor Lloyd ehm eravamo comunque diciamo intenzionati apprezzo questo pensiero del possesso il mio massimo impegno che posso quindi se la vuole comunque procedere la nostra linea sarà semplicemente questa a me interessa comunque fare delle domande non tanto per l'accusa sua ma anche per chiarimenti riguardo a questa fabbricazione perché per me potrebbe essere anche stato la fabbricarli c'è capisci sì quindi vorrei un attimo dei chiarimenti riesco a fare un RP bello divertissimo fare i processi è molto generica voglio far capire questa cosa che non presentarsi adesso ho solamente una monta di 100 mila impi provo a farle ora delle altre domande per essere lavorativo voglio far capire che ci sta più RP a fare che ricevi rispondo se mi puoi ripassare i documenti poi posso non passagli eh sì così nel caso per le domande mi baso anche un attimo su fascicoli a posto prego procediamo sì procediamo signori mamma mia ragazzi ok allora parto dicendo che il signor Mark Lloyd è stato trovato in possesso di documenti falsi inizialmente la polizia pensava che tutti e dieci i documenti ritrovati sull'imputato fossero falsi ma poi nove di essi sono stati risultati legittimi e dichiarati dal proprietario del Bennis in quanto erano buoni sconto da usare nell'attività dopodiché però è rimasto appunto un documento quella della licenza ambulante che risulta appunto falsa perché quello è un documento rilasciato solamente dalla procura con la firma di un procuratore e come ha visto anche lei il signor giudice il documento è chiaramente falso quindi l'imputato è accusato di possesso di documenti falsi e aggiungerei anche truffa per il fatto che nel documento falso trovato sull'imputato non viene segnato il suo nominativo ma viene segnato il nominativo di un certo io lo dico subito di un certo Mike Mayweather che non corrisponde al punto del nome dell'imputato il signor Mayweather mi è stato riferito dagli agenti di polizia che poi si è presentato insieme a un socio e ha detto chiaramente che non non sapeva come quel soggetto cioè l'imputato potesse essere potesse avere appunto il il documento in questione detto questo concludo la mia ringa finale prego difesa buonasera buonasera insignor giudice buonasera a questa corte dunque per quanto riguarda l'accusa nei confronti del mio assistito sia al possesso di documenti falsi il mio assistito ha intenzione di dichiararsi colpevole ci tengo però a fare una precisazione stiamo parlando che il mio assistito è stato trovato in possesso di licenze da vendita l'ambulante falsificate licenze non documenti che non permettano di identificare la vera identità del mio assistito da codice penale il reato di possesso di documenti falsi si configura nel momento in cui un soggetto viene trovato in possesso di un documento falso che non permette di identificare la sua vera identità quindi non mi sembra diciamo un'accusa valida per i documenti che sono stati trovati in possesso del mio assistito pertanto richiedo l'annullamento di questo processo e lasciar cadere tutte le accuse nei suoi confronti no intanto procediamo con le testimonianze questo un secondo solo mi confronto con il cancelliere mi sono perso un attimo siccome si è arrivati a cancellazione nel momento del processo per aspetta che numero di processo per quel motivo ho chiesto l'annullamento non hai seguito l'avvocato no ho seguito dimmi cosa ha detto l'avvocato dimmi cosa ha detto l'avvocato è che lo vuole annullare dimmi cosa ha detto l'avvocato un attimo vabbè non hai ascoltato perfetto più o meno ma dimmi hai ascoltato si o no no non hai ascoltato perfetto mi scusi avvocato io non ho non l'ho seguita non ho avuto un attimo problemi per quello mi sono un attimo distratto se puoi ripetermi il motivo per cui volevo richiedere un momento del processo si molto semplicemente perché il mio assistito viene accusato appunto di possedere dei documenti documenti falsi che secondo il codice penale di questo stato non siano in grado appunto di identificare la vera identità della persona a cui sono stati chiesti mentre in realtà mi ha assistito i documenti erano originali è stato trovato in possesso solo di una licenza di vendita ambulante non originale quindi contraffatta molto probabilmente quindi è un documento completamente diverso da un documento di riconoscimento un documento di identità vostro onore non voglio obiettare è solo un chiarimento per l'avvocato l'identità citata nel codice penale non si riferisce al soggetto possessore ma al documento stesso no citando il codice penale c'è scritto questo reato si configura qualora chiunque venga trovato in possesso di un documento falso che non permetta di identificare la vera identità la vera identità del documento si la vera identità del documento si intende in generale con qualsiasi tipo di documento che sia documento di identità appunto patente documenti documenti che siano appunto permessi come permesso in questo caso dice INSE come in questo caso il processo in questione allora sarebbe da non è ben chiaro e ha ragione però si identità identità del documento in questo caso no no ma identità si intende identità del documento quindi la vera identità del documento che sia vera o falsa non so posso fare un appunto il pubblico non parla il pubblico non parla ok perfetto procediamo accusa mi potresti mai la chiave in Eula si signore l'imputato l'imputato allora mi è pesante questa cosa che poi si intende a parlare davvero mi piace questo gioco come fa mettere la mano sulla Bibbia il mio maggiore impegno che posso ma anche io ripeta dopo di me giuro di dire la verità grazie che apparezi questa cosa giuro di dire la verità tutta la verità tutta la verità nient'altro che la verità nient'altro che la verità consapevole della mia responsabilità morale giuridica consapevole della mia responsabilità morale giuridica e di non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza e di non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza nel documento è difficile spiegare buonasera 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 allora in maniera molto riassuntiva anche perché siamo qui e siamo tutti abbastanza stanchi mi faccio un attimo un riassunto di quello che è successo il giorno dell'arresto sì in seguito a diciamo una marachella che ho fatto così che è stato dato per divertirmi e gli agenti mi hanno portato in centrale e mi hanno trovato questo documento ok quindi il documento era stato trovato una volta portato in centrale per una perquisizione no no per una perquisizione ero in cella e mi è perquisito come prassi esatto quindi lei è stato trovato in possesso di questo documento il documento di cui è stato trovato in possesso però è intestato a Mike Mayweather mi sa dire qualcosa di questo Mike Mayweather no non lo conosce no è un nome come un altro e come come ha fatto ad essere in possesso di questo documento penso di averlo detto all'interrogatorio è tutto registrato adesso non ricordo beh signore sono 60 minuti di interrogatorio ora non credo che il giudice non ricordo purtroppo io lo assicuro non ricordo lei ha pagato quel documento no non mi sembra non ricordo non ricordo le dichiarazioni che ho fatto in interrogatorio potrei dire cose sbagliate non voglio sinceramente quindi lei non si ricorda cosa ha dichiarato all'interrogatorio no perché è una situazione di forte stress abbiamo avuto un diciamo un battibecco la jet quindi ero molto stressato ma vedi che mi c'erano i coglioni non vorrei essere inscritto signor Lloyd ma lei fa uso di droghe? sì quali? faccio uso di droghe in generale gli ho chiesto quali droghe? più o meno tutte sì più specifico questo se le ricorderà visto che ne fa uso più o meno tutte il vostro onore è più o meno tutte è una risposta molto generica non ho soldi per le droghe quindi mi drogo forte ok testimone chiedo gentilmente di rispondere in modo dettagliato all'accusa sì 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 gliel'ho detto non è che le sto contando di quali sostanze stupefacenti fa uso questo lo chiesto più o meno tutte glielo ripeto non sto cioè boh tutte entrando la crocodile l'eroina non mi è più piaciuta l'embedì la facevo da ciò ma poi ragazzi ok le droghe più gravi di cui fa uso quali sono? non esiste una droga grave cioè sono tutte droghe sicuramente la cocaina è una droga più pesante rispetto alla marijuana no? non riesco a reputare grave ogni sostanza oddio lei fa uso di cocaina? qualche volta un po' cortore non ci leghiamo troppo se un argomento che non c'entra nulla con il processo bene andiamo avanti quindi lei è stato trovato in possesso di questo documento intestata da un'altra persona ma non mi sa dire la provenienza non si ricorda niente di quello che è successo e di come ha reperito quel documento ho detto semplicemente che non vorrei dire non ho detto questo ho detto che non vorrei dire cose in questo momento che vanno in maniera contraria a quello che ho detto nell'interrogatorio perché non ho la certezza di dire le cose giuste gliel'ho detto in un momento di forte stress e non ricordo in maniera lucida quello che ho detto che ho fatto lei conosce delle persone di provenienza messicana? chi tu conosce persone? qual è l'obiezione avvocato? domanda non pertinente qual è la voce avvocata? perché? non vedo il motivo di chiedere se conosce delle persone di quell'etnia l'obiettore come mai Pax domanda l'imputato? perché l'imputato ha dichiarato nella prova video allegata nel documento di aver parlato con queste con queste persone messicane e che da quanto ho capito sono state loro ad avergli fornito il documento falso ovvio si è respinta l'argomento c'entra con il processo la signor Lloyd le rifaccio la domanda si conosce delle persone messicane? si chi non le conosce? che però appunto hanno avuto a che fare con la detenzione di questo documento? le conosco di vista si ok quindi lei mi sta confermando che ci sono state delle persone messicane che le hanno dato questo documento si adesso le ho rinfrescato un po' la memoria no? si 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 ricorda il nome di uno di loro o un nomignolo? uno come è salvato come l'ha salvato nel telefono come l'ha salvato? Hector 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 ok Hector non ricordo il nome non lo so nemmeno no ma ero un attimo messo in dubbio perché mi sembra un nome poco messicano l'ho salvato io Hector ah ok io sul telefono l'ho salvato Hector perché ci stava mettendo troppo parlava messicano stretto ci stava mettendo troppo a dirmi il suo nome ho detto va fai quello ti chiamo Hector scusate e dove le ha incontrate queste persone? per il suicide nel suicide sì quindi queste persone hanno dato il documento le cose le ha dato in cambio? niente mi sembra se non ricordo male niente questa persona sta dichiarando che queste persone le hanno dato il documento così gratuitamente? no 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 io l'ho comprato sì sì io l'ho pagato io l'hai pagato quanto l'hai pagato? non ricordo sincero adesso come adesso non ricordo è passato un po' di tempo io so solo quanto più o meno ci avrei fatto lei lavora signor Lloyd? no ok quindi non ha un'entrata di soldi di denaro purtroppo no ok quindi immagino che se una persona paga un documento falso di decine di migliaia di dollari si dovrebbe ricordare quanto ha speso giusto? non me lo ricordo in questo momento l'ho detto sicuramente nell'interrogatorio ok ha speso più di 5.000 dollari? non ricordo io l'ho detto comunque l'ho pagato poco l'ho pagato poco in confronto a quanto l'ho prevenduto sicuramente l'ho pagato poco ah le faccio altre domande lei è mai stato in procura prima di questo processo? per cosa? in generale è mai entrato nella procura? esattamente presso la procura di New York al 5010 si 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 è entrato quando ho chiesto del procuratore Sacchi ieri se non sbaglio ieri? prima di ieri? mai mai quindi mi scusi se magari la domanda le potrà sembrare un po' strano quando l'ha ricevuta il procuratore Sacchi lei è entrato nell'ufficio? no non mi ha ricevuto poi il procuratore Sacchi quindi lei non è mai entrato nell'ufficio? no era solamente per un'email no no era solamente per un'email dove dove si diceva appunto del processo degli avvocati di tutto e io mi ha detto in caso volessi un avvocato dell'ufficio devi passare dalla procura dal 5010 a New York e lì sono andato non trovando però il procuratore ha una ragazza lei? no ok in che senso? è rilevante sta cosa? non ci vedo niente di male voglio dire no ma sono imputato peraltro ma anche quello per la procura tagliamo per fuori è rilevante la sua domanda? no era rilevante se ricontrolla il modulo che le ho mostrato prima si tratta solamente di accettarmi che non sia la persona che sia finta compiando un reato solo questo comunque niente non credo di avere altre domande prego difesa procediamo la domanda è difesa? no non ho domande l'ho imputato a portare al suo banco grazie accusa abbiamo altri testimoni? negativo vostro onore difesa non ne ha presentati quindi purtroppo no di conseguenza procediamo con la riga finale allora l'accusa per l'imputato Mark Lloyd con il reato di possesso di documenti falsi richiede una sanzione pecuniaria pari a 50.000 dollari e una pena detentiva pari a 5 anni di reclusione difesa? mi trovo in parte d'accordo con la richiesta dell'accusa essendo però il mio assistito quasi o del tutto nulla tenente chiedo di trasferire parte della sanzione pecunaria in lavori socialmente utili va bene mi si è preso di parola va bene accetto vai grazie signore e signori tutti in più di in aula precede l'onorevole bene signori questo processo era abbastanza semplice da capire che il signor perdone il signor Lloyd era in possesso di un documento falso per questo la corte dichiara colpevole per reato richiesto l'accusa e la condanna all'assenzione pecuniaria pari a 25 mila dollari e una pena attentiva di 5 anni con un totale di 5 ore di servizi socialmente utili da dover sostenere nell'arco di un mese con questo è tutto l'udienza è sciolta multa mi scusi signor dove dovrò fare per le ore verrà contattato nell'arco della prossima settimana quindi deve dare 7 giorni a partire da oggi per la procura per organizzare la sua quindi dal momento in cui lei ve l'ha comunicato dove dovrà andare a farlo a un mese per farlo 5 ore va bene perfetto devo fare la multa dove va direttamente lei a lei poi mi lascia la compagnola in carcere buona serata basta non ti presenti sono finito mancano tre processi veloci veloci senza salutare non c'è l'iere viene anche tu ci vediamo fuori un attimo che li risolvo cioè li coloro ragazzi erano tanti presenti mamma mia ma no non vedo tanti presenti da una vita chiaramente è sbagliata è sbagliata è colorata la scritta non c'è Michael mezzo morto la tempienza della via militare ordino licenziamento dal dipartimento di polizia di los santos ok anzi ordino licenziamento dal dipartimento di polizia di los santos e l'espulsione e dove lo scrivo io questo lo scriverai poi nell'archivio giudiziario magari mettici una nota al posto del al posto del 250 mila no no al posto del 250 mila aggiungi una nota ok ok come sul codice penale è presente no? come si fa? commento no no non commento fa una nota? inserisci nota sotto commento io non ce l'ho inserisci nota e scrivi espulsi allora licenziamento no io non ce l'ho inserisci nota e mettilo te dai io non ce l'ho del coso io vedi ora il puntino nel triangolino nero ok ora scrivi allora licenziamento dal dipartimento di polizia di los santos e espulsione permanente dall'albo degli agenti di polizia poi se no che lo stipendio di polizia è misero la multa la mettiamo a contente dall'albo di agenti di polizia cioè non potrà mai più fare un polizia e se no che lo stipendio di polizia è totalmente misero mettiamo una stanzione pecognaria di 100.000 dollari perché tanto si pede anche 100.000 di mandato quindi abbassiamo la pena 100.000 anzi no abbassiamo la 50 perché poi è il nostro paraccio no è 50 no no 50.000 ma mi sembra il stipendio di polizia esattamente l'hanno l'hanno alzati si ma lui è stato rimasto il processo doppio che cazzo me ne prega metti 50.000 e basta non ci ha scritto neanche non potresti neanche chiedere la stanzione pecognaria per il codice penale non ci ha scritto non è prevista non è prevista la codice penale ok quindi è già tanto prevista anzi anzi no zero zero metti zero non è prevista la codice penale no no non posso è illegale è illegale non è prevista la codice penale penale metti zero poi 15 anni di carcere va bene no 15 anni va bene anche quello è zero non possiamo mettere cose che non possiamo fare ah che cazzo fa scusami l'espulsione dall'arbo delle polizie basta quello si poteva fare teoricamente è partito anche 15 anni di carcere poi James Kenway cosa ha fatto James Kenway possesso i documenti falsi questo cosa aveva non mi vede questa non era una mia sappilo perché anche questo io lo potevo inculare soltanto non ho avuto tempo di guardarmi tutto perché me l'hanno mandato me l'hanno dato oggi stamattina la foglia di processo James Kenway quale cazzo è 014 come avete il documento falso ma no vabbè ma che non era stato documento falso come l'ha fatto ma come l'ha fatto questo documento falso te lo devo dire fuori cioè è Bobby secondo me perché hai visto lui prima ha detto Hector sui russi Bobby cosa no 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 vado a vederla qui qua dal minuto 0 0 38 40 secondi che mi sembra aver capito che ha avuto problemi con con dei civili giusto che l'hanno comunque aspetta comunque si poi sa chi ha fatto una cazzata madonna no no ho detto arrivo finisco una cosa col giudice che facciamo facciamo gli ultimi eh ho detto Vuxi anche bene un attimo no vabbè nel senso va bene va bene 30.000 a due anni c'è un po' posto ok e l'ultimo sì sì l'ultimo vabbè mezzomolto l'avete già fatto sì mezzomolto l'hanno già fatto che cosa è di licenziamento del dipartimento di polizia e 15 anni di carcere e non può più entrare in polizia non può più entrare in polizia nessun dipartimento ok perfetto vabbè aspetta fuori vai abbiamo evasione tentato omicidio di James Hernandez perché tipo è stato trovato a picchiare sangue e uno poi l'hanno arrestato ed è scappato ok 100.000 dollari di senzioni pecuniari e 10 anni di penale tentiva finito se me li conferma sì 100.000 chiesto siamo 80.000 e 10 anni bo posto ciao ma lo vedi com'è bene lo l'asportiamo sì chiami un Marshall ci siamo noi andiamo 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 lo Santos quindi con me vuoi fare la coppia un po' cortore io ci dovevo parlare un attimo di una cosa no perché noi andiamo lo Santos io vado e devo andare in procura andiamo 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 ma tu che puoi dormire che non c'è dire lasciatemelo tranquillo tanto ormai cazzo io ne so vai a dormire no ormai siamo qua finisco e domani giù di caffè che bello vai a dormire no no me ne vado in procura perlomeno non la lascio da solo c'è una persona lì di me non è se non lo sono da solo sì vabbè ma ormai cioè per andare adesso ma non vi c'è nessun altro Marshall mi scusi è l'unico lei stanno facendo il convoglio per portare alcuni sono a trasporto del carcerato e io sono incaricato di scortarla ok andiamo vuoi guidare andiamo vuoi guidare te cancelliere se secondo vai qual era 615 617 si andiamo lo santo giusto si si mi puoi sapere una volante che è più veloce qua auto speciali sirene lampeggianti eccola qua giudice cosa ne pensi del sottoscritto cancelliere Walker qual è regalato il giudice lo sto portando a destinazione sono un buon acquisto come cancelliere giudice eh se la promuora no a cosa a procuratore no devi fare le cancelliere tu però che si è promossa la cancelliere si si Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.